L'ordine del giorno rega l'audizione del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dottor Giovanni Melillo, accompagnato dal Maggiore della Guardia di Finanza, Eugenio Marmorale, che è il referente operativo responsabile del gruppo di lavoro SOS, segnalazione di operazioni sospette della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, a cui do il benvenuto e che ringrazio per essere qui oggi. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta la partecipazione da remoto ai componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta degli auditi o dei colleghi. In tal caso, ovviamente, non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la strammissione via streaming sulla web tv. A questo punto, io ringraziandolo ancora per la disponibilità, do direttamente la parola al Procuratore Nazionale per la sua relazione. Prego, Procuratore, grazie. Buono, io dover ringraziare, dover esprimere il mio ringraziamento più sentito al Presidente, Chiara Colossi, ma alla Commissione tutta per aver accolto la richiesta mia del Procuratore della Repubblica di Perugia di essere auditi. è una richiesta animata da un semplice, sincero spirito di collaborazione istituzionale che noi riteniamo doveroso, anche alla luce della nostra convinta adesione a una visione delle istituzioni, anche giudiziarie, aperta al bisogno sociale di conoscenza e di verifica del loro agire. E' dunque aperta alle regole e ai tempi propri del controllo democratico, per ricordare un vecchio scritto di un illustre costituzionalista come Alessandro Pizzorusso, alle regole della partecipazione democratica alle diverse forme dell'amministrazione e della giustizia. Naturalmente questa disponibilità è stata espressa innanzitutto al Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo di governo autonomo della magistratura e come tale depositario di funzioni di indirizzo e di vigilanza dell'operato degli uffici giudiziari, ma anche di funzioni di tutela, dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Valori che si nutrono di autorevolezza e affidabilità delle sue istituzioni, che sono beni che tocca ai magistrati preservare e che impongono anche verifiche e controlli anche stringenti, ma che non tollerano il gioco delle insinuazioni e delle manovre strumentali. Perché sono beni di tutti, semplicemente. Ecco, la convocazione con questa Commissione corrisponde immediatamente anche proprio per l'ordinaria pubblicità delle sue sedute, anche a desigenza di venire incontro all'interesse pubblico a un'informazione completa e obiettiva, capace di cogliere i fatti e i problemi e di allontanare il pericolo di disinformazione, di speculazioni e di letture strumentali di vicende che riguardano delicate funzioni statuali. Per tacere ovviamente delle punte di scomposta polemica, che sembrano mirare non ad analizzare la realtà e a contribuire alla sua comprensione e all'avanzamento degli equilibri del sistema, ma a inclinare l'immagine del mio ufficio e a delegittimare l'idea stessa di istituzioni neutrali, come la Procura nazionale antimafia e magari dopo anche la Banca d'Italia, l'idea stessa c'è che le istituzioni neutrali abbiano un essenziale ruolo di garanzia nella tenuta del nostro sistema antiriciclaggio. Su questo terreno l'ufficio che ho l'onore e la responsabilità di dirigere può dire di avere le carte pienamente e regola, avendo sviluppato con grande impegno azioni e iniziative di profonda trasformazione dei metodi e delle prassi di lavoro, nella piena trasparenza delle scelte e con la condivisione unanime di tutti i procuratori distrettuali. Una condizione di credibilità e autorevolezza a quella del mio ufficio, che il Governo da prima e il Parlamento dopo hanno apertamente riconosciuto appena poche settimane fa, in occasione della conversione in legge del decreto 105 del 2023, con il quale sono state affidate al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo le funzioni di impulso investigativo anche in materia di sicurezza cibernetica e dunque anche con riferimento ai delitti come quelli oggetto delle indagini perugine. Un passaggio normativo è importante perché consente di applicare la cultura del coordinamento investigativo in una materia segnata finora da frammentazione delle conoscenze e disomogeneità delle iniziative giudiziarie. Sul punto dovremmo tornare, dovrò tornare, ma intanto preme l'esigenza di offrire alla Commissione un quadro informativo completo dello scenario normativo, istituzionale, organizzativo e operativo nel quale si sono realizzate molte le condotte illecite per le quali procede il Procuratore della Repubblica di Perugia. Naturalmente la complessità anche tecnica della materia comporta l'accettazione preventiva della triste necessità che la mia esposizione sia lunga e possa apparire anche un po' noiosa. Ma alternativa non c'è. Se si vuol comprendere la cifra reale dei nodi problematici che ruotano intorno alla gestione delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette e più in generale i nodi problematici che ruotano attorno alla protezione dei patrimoni digitali necessari all'azione di prevenzione e repressione dei più gravi fenomeni criminali. Un'azione che è propria della magistratura, delle forze di polizia e anche dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica. Naturalmente non mi sottrarò nei limiti del segreto investigativo che ancora copre gran parte degli atti dell'indagine condotta dal Procuratore di Perugia a fornire alla Commissione ogni dato, ogni informazione necessaria a dar conto dei metodi adottati e dei risultati conseguiti nell'impiego dei delicati dati che confluiscono nella nostra banca dati. Convinto come sono, ma sono qui per darne conto alla Commissione e dunque al Parlamento, che il mio ufficio abbia fatto e stia facendo tutto quanto necessario per svolgere al meglio le sue delicate e complesse attività, operando in questa prospettiva insieme e concordemente alle altre istituzioni che hanno un ruolo nel sistema antiriciclaggio e di prevenzione del rischio di utilizzo del sistema finanziario anche a scopi di finanziamento e terrorismo. Traloscerò naturalmente il di ricostruire compiutamente il quadro normativo di riferimento che è internazionale, sovranazionale e nazionale, dovendo credere che fare esercizio non necessario per ciascun componente della Commissione. Mi dimiterò a pochi cenni essenziali, soltanto per sgombrare il campo da raffigurazioni come quelle circolate negli ultimi tempi piuttosto irreali, ma naturalmente sono pronto a riprendere il tema normativo per chiarire eventualmente a ogni dubbio e per rispondere alle vostre domande. Dunque, per fare una sintesi obiettivamente brutale, diciamo che le segnalazioni di operazioni sospette sono oggetto di un obbligo di tutti i soggetti inseriti nel sistema finanziario, istituti di credito, professionisti, eccetera, eccetera, che sono tutti puntualmente individuati dal legislatore perché quel perimetro è definito dalla legge ed è progressivamente ampliato anche in corrispondenza ad avanzamenti del quadro normativo sovranazionale. Nel nostro ordinamento il concetto è stato inserito dalla legge 197 del 1991 e poi confermato e rafforzato con i decreti legislativi numero 56 del 2004 e numero 231 del 2007. Stiamo parlando del pilastro del sistema di prevenzione antiriciclaggio. la SOS rappresenta lo strumento attraverso il quale un soggetto obbligato porta a conoscenza dell'unità di informazione finanziaria per l'Italia, che per noi è appunto un'istituzione neutrale, tale dotata di uno specifico, uno speciale statuto. Ecco, porta a conoscenza delle unità di informazione finanziaria per l'Italia alle operazioni delle quali si sa, si sospetta, ossia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, siano state compiute o tentate semplicemente operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che comunque i fondi o le monumentazioni finanziarie, indipendentemente dalla loro attività, siano ricollegabili a quel tipo di attività. La Direzione Nazionale Antimafia è stata individuata come destinataria delle SOS, connessa alla criminalità organizzata al terrorismo, già con decreto legislativo 231 e 2007, che appunto prevedeva che la UIF, quindi che la UIF trasmettesse per il tramite della DIA del Nucleo Speciale al Procuratore Nazionale Antimafia tutte le informazioni relative a operazioni sospette attinenti alla criminalità organizzata. Notevole Villamanza ha proprio questa disposizione, l'articolo 8 del decreto legislativo, che prevede una serie di punti che è bene tenere presente. La DNA riceve dall'UIF, l'articolo 8 ha subito modificazioni anche recenti nel 2017, ma questo è il testo vigente, quello a cui faccio riferimento. La DNA riceve dalla UIF, tramite del Nucleo Speciale della DIA, i dati anagrafici dei soggetti censiti nelle segnalazioni, per la verifica della loro attinenza a procedimenti giudiziari in corso per i reati appunto di mafie di terrorismo. Questi dati vengono sottoposti in una procedura di matching automatico, che si svolge secondo le regole di algoritmi, che servono appunto a trovare le connessioni tra i nominativi contenuti nel SOS e i nominativi presenti nella nostra banca dati. Ed è una connessione essenziale per poter poi trasferire queste informazioni alle procure distrettuali, che sono gli unici uffici titolari di poteri investigativi. Ora, la possibilità, poi vi è anche la possibilità per la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di chiedere all'UIF l'analisi di flussi finanziari o studi, ricerche su singole anomalie, su determinate ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio, su specifici settori dell'economia ritenute a rischio, su categorie di strumenti di pagamento, eccetera, eccetera, eccetera. Con il decreto numero 90 del 2017 sono state apportate modifiche, prevedendo che la Direzione Investigativa Antimafia e il nucleo speciale di Polizia Valutaria, destinatari di tutte le segnalazioni, trasmettono al Procuratore Nazionale le SOS appunto attenenti alla criminalità organizzata al terrorismo. Quindi, nel quadro normativo così delineato, il mio ufficio riceve le segnalazioni sospette tanto dall'UIF quanto dalla DIA e dal nucleo speciale, da adesso lo chiamiamo Polizia Valutaria, si fa prima, dalla Polizia Valutaria, ferma restando la limitazione connessa a quelle attenenti alle materie di competenza della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Da ultimo, per dire un'ultima traccia della complessità anche della materia normativa, a essenza dell'articolo 40,1 lettera E del decreto legislativo 231 del 2007, le SOS vengono trasmesse, nel caso di specifico interesse, anche agli organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica. In questo caso l'UIF ne dà informazione tempestiva alla valutaria e alla DIA. Allora, detto questo, ma anche per, come dire, per provare a promettere che la mia relazione non sarà solo una mera e grigia esposizione di dati e temi giuridici, proverei a fornire alcuni dati di immediata chiarezza percettiva, che possono, peraltro, aiutare a comprendere meglio che la complessità delle questioni che abbiamo di fronte non è governabile né ricorrendo a semplificazioni eccessive né accontentandosi di impressioni vaghe e imprecise della realtà. Potrà essere, per esempio, interessante rilevare che nella nostra banca dati, che è ben lontana dall'essere un mostro onnivo, si ritrova soltanto una ridotta percentuale delle SOS generate dal sistema finanziario e trasmesse dalla unità di informazione finanziaria, dall'UIF. Negli anni che vanno da 2018 a 2023, quella percentuale oscilla tra l'8 e il 16% di tutte le SOS generate dal sistema finanziario. Ecco, è un dato di chiarificazione che non è ricavabile dalla legge, ma corrisponde ai criteri di gestione della piattaforma digitale della UIF, che è quella che governa, per così dire, i flussi e la loro gestione. Perché, secondo questi criteri, come accennavo, tutte le SOS vengono a noi trasmesse, ma vengono trasmesse e criptate. Il meccanismo di protezione criptografica dei contenuti della SOS viene meno e quindi la SOS diventa leggibile solo quando quella determinata SOS si incrocia con i dati presenti nella nostra banca dati, dati relativi ai procedimenti in materia di criminalità organizzata e di terrorismo. tutte le altre SOS restano illegibili ai nostri sistemi. Naturalmente tutte le SOS sono conservate nella banca dati della Guardia di Finanza e della DIA, oltre naturalmente nella piattaforma UIF che le raccoglie poi in originale trasmissione. E si tratta di banche dati, quelle degli organi di polizia che le ricevono, a cui naturalmente si accede secondo le regole proprie degli ordinamenti di polizia. Più esattamente, tutte le SOS che non trovano riscontro nella banca dati della DNA, cioè quelle con match negativo che vanno appunto dall'84 al 92%, oltre a essere oggetto delle analisi finanziarie dell'UIF, sono trasmesse alla DIA e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria per l'analisi, gli approfondimenti e l'impiego informativo previsto dai rispettivi ordinamenti. Qualcuno si chiederà ma perché devono essere trasmesse anche alla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo? Per la semplice ragione che sono informazioni decisive per l'efficace e tempestivo impulso dell'azione investigativa, ma sono informazioni importanti anche per l'analisi finanziaria dei comportamenti del sistema finanziario che fa l'UIF, perché al matching positivo corrisponde inevitabilmente la restituzione di informazioni qualificate che consentono poi di procedere a ricognizioni e analisi mirate. Naturalmente se l'indagine è riservata, il matching indicherà semplicemente che a quel nominativo corrisponde un procedimento, ma non si sa nulla di dire quale sia l'ufficio che procede, quale sia il reato per il quale si procede, eccetera. Se invece le indagini hanno già raggiunto la fase della pubblicità, il che avviene con il deposito dell'avviso di conclusione delle indagini, allora si restituisce a l'UIF una serie importante di informazioni, perché si restituiscono anche le informazioni relative al reato per il quale si procede e questo consente importanti progressi, ma tutta questa materia di analisi finanziaria credo che sia meglio esplorarla con l'ausilio della competenza del direttore dell'UIF. Può essere altresì interessante segnalare che la già ridotta percentuale di sosse inserite nei nostri sistemi è destinata a ridursi assai significativamente per una sorta di self-restraint, per effetto della delimitazione del campo di matching che ho personalmente operato con provvedimento del 15 gennaio scorso a valle del finalmente raggiunto obiettivo della revisione del protocollo sui scambi informativi sulle sosse che è stato siglato il 21 dicembre scorso con il capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il comandante generale della guardia di finanza, il direttore della direzione investigativa antimafia e il direttore dell'unità di informazioni finanziaria. Un protocollo che, come poi dirò, rappresenta un deciso passo in avanti nella sicurezza dei flussi informativi in questa così delicata materia. Può essere anche utile tener conto che sono attualmente in corso indagini anche in relazione ad altri casi di accesso abusivo a SOS relative ad altre figure di rilievo mediatico avvenuti anche nelle scorse settimane e dunque certamente per mani diverse da quelle a cui oggi sono ipoteticamente attribuiti i casi di accesso abusivo individuati da un'altra dal procuratore di Perugia. Aggiungerei soltanto che si tratta di dati che non risultano mai entrati nella nostra disponibilità per le ragioni tecniche prima individuate. Ritengo anche importante, ma il tema potrà formare oggetto del vostro eventuale interesse, credo compiutamente solo in occasione dell'audizione del procuratore di Perugia, credo che sia importante anche a prestare attenzione all'esigenza di verificare, anche con riferimento alla indagine perugina, quanti siano gli accessi abusivi nei sistemi della DNA che riguardano le SOS, quanti accessi alle SOS siano avvenuti attraverso i nostri database e anche quanti accessi abusivi non riguardano in alcun modo le SOS, ma un altro genere di patrimonio informativi digitali. Dico questo non per togliere nulla la gravità delle cose che a mio avviso è estrema, perché la gravità dei fatti in corso di individuazione e accertamento nell'indagine del collega Cantone è estrema. Lo dico soltanto per sottolineare la complessità, anche essa estrema, del problema della corretta e rigorosa gestione delle banche dati nelle quali complessivamente, secondo canali e regole diverse e non sempre omogene, confluiscono quelle e altre non meno delicate informazioni che è necessario raccogliere a fini di prevenzione e repressione dei reati. Ecco, la consapevolezza della complessità del problema e nella mia visione anche la consapevolezza della serietà estrema dei rischi che gravano sull'immagine di trasparenza, di correttezza, di affidabilità di tutte le istituzioni che gestiscono informazioni riservate, io credo che potrà utilmente contribuire a valutare realisticamente l'adeguatezza degli attuali strumenti legislativi, degli attuali strumenti tecnologici, degli attuali assetti della pubblica amministrazione necessari per assicurare la tutela del segreto d'ufficio e di quello prettamente investigativo, ma anche la protezione dei diritti delle persone coinvolte dall'eventuale uso abusivo di quelle informazioni e di ogni altro patrimonio informativo destinato appunto a fini di giustizia, alla prevenzione, all'accertamento dei reati, ma anche a tutelare la sicurezza della Repubblica. Confido che nel proseguire il mio dire sarà più chiaro rispetto a quanto ora mi limito a accennare. Alcune cose vanno dette circa il valore delle SOS. Il valore delle SOS in generale per l'alimentazione delle funzioni di prevenzione e repressione dei reati, ma anche per le funzioni della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Può essere più semplice intuirlo se si pensa ai procedimenti di criminalità organizzata, essendo notoria la naturale vocazione delle organizzazioni mafiose a generare complessi e raffinati processi di accumulazione finanziaria. Certo, sono molto utili, si potrebbe fare anche molto di più, se per esempio nella prospettiva della PNRR e del contrasto della prevenzione, del contrasto dei rischi di condizionamento mafioso della sua attuazione, finalmente le stazioni appaltanti, come dire, gli enti pubblici che diffungono la stazione appaltante, scoprissero, sia puttardivamente, che per legge, appunto, anche gli enti pubblici che agiscono nel settore degli appalti hanno da anni l'obbligo di segnalare operazioni finanziarie sospette. Potrete trovare conferma della ineffettività di questo obbligo nella relazione, l'ultima relazione del direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, quale segnalava che c'erano soltanto pochissime SOS generate da pubbliche amministrazioni. Non ha detto pubblicamente che si tratta di di SOS generate da una o due società della stessa società a capitale pubblico come tale tenuta. È un principio di segretezza anche dell'identità del segnalante, che è ovviamente l'identità fisica e che quindi riguarda, si proietta anche sull'identità dell'ente generatore dell'informazione. Comunque, sarebbe importante, per esempio, che anche il sistema di prevenzione antimafia, che fa capo alle prefetture, scoprisse il valore di questi doveri delle pubbliche amministrazioni, facendone parametro delle sue funzioni di controllo antimafia, perché dubito fortemente che i comuni sottoposti a fenomeni di condizionamento mafioso del proprio operato siano così attenti all'osservanza puntuale degli obblighi di segnalazione delle operazioni finanziarie sospette. Così come sarebbe importante, anche per rinforzare il sistema antiriciclaggio, il monitoraggio dei flussi finanziari che da anni previsto per le opere pubbliche è di maggiore importanza. Questo sistema notoriamente non funziona, eppure esistono proposte di implementazione normativa da tempo suggerite da Banca Italia. Ma atrofie applicative e prospettive di implementazione normativa a parte, il nostro sistema antiriciclaggio è, grazie anche al valore degli uomini e delle donne che lavorano ogni giorno nelle istituzioni di prevenzione e controllo che reggono il nostro impianto antiriciclaggio, ecco il nostro sistema è guardato con rispetto e ammirazione da tutto il mondo. È un esempio il nostro sistema antiriciclaggio. E a questo sistema il mio ufficio partecipa fornendo un contributo importante. Il procuratore della Repubblica di Palermo, ad esempio, potrà, volendo, forse offrire qualche elemento di valutazione sul sostegno dato al suo ufficio nella fase di maggiore impegno investigativo seguito dalla cattura di Matteo Messina Denaro, sviluppando quotidiane analisi delle SOS raccolte con la fondamentale collaborazione dell'UIF con riguardo all'intera rete di favoreggiamento e complicità di quel latitante. Ma l'importanza dell'innesto della conoscenza delle SOS già nella fase genetica delle indagini, che è originata dalle funzioni di impulso del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, è capace di manifestarsi in modo persino eclatante anche in materia di terrorismo, soprattutto in terrorismo internazionale. Basterebbe pormente la delicatezza di tante indagini, non pensavo di essere invitato a qualcosa sui gesti, Presidente, basterebbe pormente dicevo la delicatezza di indagini innescate nell'esperienza della DNA dall'immediata ricezione, dalla tempestiva analisi e dall'immediato impulso conseguente al SOS trasmesse, sovente da Financial Intelligence Unit estere, relative a circuiti jihadisti protagonisti di attentati efferrati. Dunque io proverei innanzitutto a fissare alcuni punti fondamentali. Il primo, le SOS sono strumenti essenziali per il contrasto del pericolo di utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e lo sono rispondendo a precisi obblighi internazionali e sovranazionali. Le SOS, ed è il secondo punto, sono uno strumento fondamentale anche per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento investigativo del mio ufficio, tanto in materia di mafia che di terrorismo, ricordando che le nostre prerogative sono serventi ai poteri di indagine che spettano soltanto alle procure distrettuali. Le SOS sono strumenti delicatissimi, questo è il terzo fondamentale punto, non è al terzo posto per ragioni di minore importanza, solo dal punto di vista logico ovviamente. Le SOS sono strumenti delicatissimi, contengono dati, notizie, informazioni in grado di profilare chiunque e di rivelare la natura delle nostre relazioni personali e sociali. Da questo deriva un corollario apparentemente banale, ma fondamentale. L'uso delle SOS deve essere circondato dal massimo vigore delle procedure di accesso e di controllo successivo e deve avvenire nei limiti e all'esclusivo fine delle attribuzioni di ciascuna istituzione coinvolta. Ecco, io vorrei che questi quattro punti fossero tenuti ben presenti. Con riferimento soprattutto all'ultimo, posso affermare senza temere di poter essere smentito che proprio la grande delicatezza della materia e la necessità di presidiarne accuratamente i valori, i principi e le specifiche regole di gestione hanno sin dal primo giorno delle mie funzioni di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo guidato l'esercizio delle mie responsabilità, essendo immediatamente apparsa tutta la necessità di disporre di sistemi informatici, di regole, di procedure, di sistemi di controllo in grado di evitare ritardi e contraddizioni nell'azione investigativa, ma anche di assicurare la sicurezza, la trasparenza, la correttezza, la tracciabilità, il controllo ex post delle procedure di trattamento dei dati personali contenuti nelle nostre banche dati e non soltanto di quelli contenuti nelle SOS, ma soprattutto di assicurare la più stretta e rigorosa corrispondenza delle attività del mio ufficio alle funzioni sue proprie. Tutto ciò è necessario per dar conto dell'affidabilità dei nostri processi di lavoro e dell'azione dei magistrati, degli analisti, della Polizia Giudiziaria che lavorano con noi. Esporre i tratti fondamentali di quest'azione, di un'azione svolta negli ultimi 21 mesi, pertanto non serve a tracciare inutili linee di demarcazione e neanche meno a vantare meriti, ma a illustrare con chiarezza una dimensione problematica che va ben oltre la misura offerta dalle funzioni della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Nello stesso tempo, questa esposizione serve anche sul presupposto dell'accettazione di una cornice di piena e matura consapevolezza dell'eccezionale delicatezza degli interessi complessivamente in rilievo. Una consapevolezza che io mi augurerei il più possibile diffusa, il più possibile condivisa, ma che posso semplicemente auspicare che sia tale. Ecco, esporre i tratti fondamentali di quest'azione serve innanzitutto a dar conto della faticosità del cammino fatto, ma, me lo faccio a dire, anche a dar conto dei risultati raggiunti. Sono risultati, lo credo fermamente, che dimostrano che la complessità può essere governata, i rischi possono essere controllati, non azzerati, ma controllati, le criticità superate, non tutte, non immediatamente, ma possono essere superate, e tutto ciò contribuisce a fornire l'infa al nostro sistema investigativo, in materia di criminalità organizzata e di terrorismo, con le dovute garanzie di correttezza e di trasparenza. È un cammino non ancora concluso, ma intrapreso dal primo giorno di lavoro quale procuratore nazionale. Perché è un oggetto prioritario? Perché il tema ha una delicatezza che ormai è evidente a tutti, ma è una delicatezza con la quale io mi misuravo da, è una complessità con la quale mi misuravo da anni. Da procuratore della Repubblica di Napoli, avevo insieme ai procuratori di Roma e Milano, per esempio, sollevato il tema della, quella che ci sembrava un deficit di funzionalità, del sistema di disseminazione delle SOS, perché la Guardia di Finanza, dopo aver elaborato tutte le SOS, poi le trasmette, secondo criteri definiti dal proprio ordinamento, ai nuclei di polizia economico-finanziaria che si ritrovano presso ogni comando provinciale e attraverso i nuclei giungono, nel caso, anche alle procure distrettuali. Ponemmo il problema semplicemente di assicurare la più tempestiva e corretta disseminazione delle SOS verso il naturale sbocco delle indagini delle procure. Un tema complesso, come dire, fu importante per esempio il sostegno dato dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione del Tempo, Giovanni Salvi, il quale, per rimuovere gli ostacoli che avevano di fatto generato il blocco di decine di miliardi di SOS, volle condividere le ragioni espresse da me e dai colleghi Francesco Greco e Giuseppe Vignatone, aprendo la strada a un'importante, quanto lungamente attesa, circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza, necessaria per abilitare la Polizia Valutaria a trasmettere ai nuclei PEF territoriali e quindi anche alle procure le soste di rispettivo interesse senza attendere una sorta di via libera della DNA che pareva indispensabile. Era un discorso complesso in sé, ma che aveva generato anche il dubbio che le funzioni della DNA rischiassero di esorbitare dal loro proprio ambito e ostacolassero il tempestivo avvio delle indagini. Dubbi e perplessità nel quale vi è evidente riflesso nel verbale di quella riunione che fu promossa dal Procuratore Generale e che metto a disposizione della Commissione. Tuttavia, le riserve e le perplessità riguardavano esclusivamente l'efficacia dei criteri di comunicazione, tecnicamente l'espressione usata è quella di disseminazione delle SOS affidata alla Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e poi l'efficacia anche dei criteri di comunicazione delle SOS risultate positive al matching con i dati di registro, perché in astratto era ben possibile che il matching fosse positivo con la procura di Reggio Calabria, perché lì si procedeva per il delitto di associazione mafiosa, ma l'operazione finanziaria segnalata fosse stata compiuta a Torino o a Milano. e questo creava un problema, ma erano problemi assolutamente risolubili, ma assolutamente risolubili una volta eliminata le incomprensioni che avevano generato appunto una sorta di blocco della trasmissione delle SOS. Nel verbale di quella riunione trovate anche le tracce di alcune delle principali direttrici della mia successiva azione come procuratore nazionale antimafia, volta a rendere sempre più evidente la natura servente delle attribuzioni della procura nazionale anche in questa materia rispetto ai poteri investigativi delle procure distrettuali. Questo è un discorso al quale alcuni si avvicinano senza dovuta consapevolezza, ma il mio ufficio non rivendica, ma non riesce neanche ad immaginare una posizione sovraordinata o una condizione di separatezza strutturale e funzionale rispetto agli uffici distrettuali. Il mio ufficio lavora con le procure distrettuali, per le procure distrettuali, nelle procure distrettuali. Dicevo, nonostante quei dubbi, non avevo ragione di estendere le mie riserve perplessità dal piano dell'efficacia delle funzioni attribuite alla DNA a quello della sicurezza dei dati, per quanto potessi dubitare dell'affidabilità di sistemi informativi come quelli generalmente propri dell'amministrazione e della giustizia, che sono di regola deboli e obsoleti. Di tali aspetti percepì appieno il rilievo, soltanto dopo aver assunto le funzioni di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, emergendo presto nel quadro di una immediata ricognizione sul campo dei problemi e dei temi da approfondire prioritariamente, che quello della sicurezza dei nostri sistemi era una questione importante. Quindi una questione importante è che soprattutto esigeva interventi immediati per poter meglio presidiare i rinunciabili garanzie di correttezza dei criteri di organizzazione dell'ufficio. Soprattutto considerando, è sempre stato un punto fermo della mia azione direttiva, che non basta enunciare regole, ma occorre anche monitorarne la pratica e coerente attuazione e quindi verificarne quotidianamente l'esigenza di ulteriore implementazione. In ogni caso, la conoscenza dei problemi di impianto organizzativo e dei principali rischi di interferenza che si erano rivelati nel passato, contribuiva, dal mio punto di vista, a rendere evidente la necessità di un'azione risoluta di monitoraggio di ogni criticità o anche di semplici profili suscettivi di affinamento e quindi di miglioramento dell'attività dell'ufficio. E in particolare dell'ufficio SOS, che sin dal 2014 era affidato alle cure di un solo magistrato, ancorché nel 2021 fosse stata prevista anche una responsabilità di coordinamento, in capo al procuratore e aggiunto vicario, che tuttavia non consentiva di controllare realmente l'operato quotidiano del gruppo SOS, che operava le dirette dipendenze dell'unico magistrato incaricato. Si trattava quindi di sviluppare un'azione di complessiva ristrutturazione dell'ufficio, di questo, come dire, per il suo particolare ambito, secondo alcune direttrici che, a mio avviso, erano immediatamente chiare, ciascuna delle quali ancora oggi mi appare cruciale sia per comprendere ciò che è avvenuto, e di cui la Commissione ha ovviamente interesse a comprendere, sia per prendere atto che ciò che è avvenuto oggi non sarebbe possibile, o se ancora possibile, non sfuggirebbe ai controlli. Dunque, primo punto, la prioritaria considerazione del tema della sicurezza dei sistemi informativi, sia della DNA che delle altre istituzioni con le quali la DNA interagisce. Dirò della disastrosa condizione dalla quale siamo partiti, dei contatti istituzionali avuti e dei risultati conseguiti per mettere in sicurezza i nostri sistemi e la banca dati. Il secondo punto fu proprio conseguente a questo. Dopo prime verifiche, decisi di chiedere un'ispezione amministrativa straordinaria al Ministro della Giustizia, programmaticamente mirata anche e soprattutto alla verifica della funzionalità e della sicurezza dei sistemi informativi. Un'ispezione che si svolse, la prima volta, credo, con la collaborazione della struttura tecnica del Ministero, ma anche di quella del CIN, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, perché apparve chiaro lo stesso Ministero che non aveva, peraltro, conoscenza aggiornata dei sistemi della DNA, che aveva necessità di un know-how particolarmente voluto. Dirò degli esiti sconfortanti di tale ispezione e delle azioni quindi intraprese. Sembrerà noioso tutto ciò, ma nulla si comprenderebbe senza tener conto della realtà dei sistemi che, e non parlo soltanto di quelli a DNA, indifferenti o semplicemente, che non sufficientemente attenti a logiche indispensabili di monitoraggio e controllo delle anomalie degli accessi, come nel caso della DNA, con debolissime funzioni di backup e di storage. Anche in questa prospettiva, presi quindi immediati contatti con la Guardia di Finanza, con l'UIF, con la Banca Italia, per avviare i necessari processi di revisione dei protocolli di gestione delle sosse. Anche e soprattutto nella prospettiva della sicurezza dei dati. Ragionammo con i vertici di tutte queste istituzioni, anche su questo stilicidio rappresentato dalla pubblicazione sulla stampa delle sosse. Personalmente, introdussi procedure di verifica dell'esistenza di tracce delle sosse che comparivano sui giornali anche nei nostri sistemi e quando queste comparivano, anche semplicemente in termini potenziali, ne informavo il procuratore della Repubblica di Roma, alla quale raccomandavo anche l'esigenza, alla quale oggi posso contribuire, di provare a mettere in relazione fatti relazioni apparentemente lontani tra loro. perché questo tipo di indagini, in generale quelle sugli accessi abusivi, è ordinariamente caratterizzata da frammentazione degli approcci cognitivi. Nel cyberspace non ci sono tutte le distanze fisiche che si immaginano poter in esso corrispondere dalla realtà fisica. Quindi, il 22 giugno, e badate, io ho assunto il servizio come procuratore nazionale il primo giugno del 2022, quindi dopo 20 giorni, assunsi la diretta responsabilità del servizio risorse tecnologiche, flussi e sicurezza previa restituzione delle delle che è già conferita al procuratore aggiunto vicario, dovendo rinviare all'esito delle procedure di modifica e revisione del programma organizzativo previste dal circolare del Consiglio Superiore della Magistratura, l'assunzione, che pure mi sembrava essenziale, della diretta responsabilità anche del coordinamento del servizio sosse. Procedetti intanto, perché era necessario, perché era una ricognizione delle prassi e un immediato avvio di un processo di revisione organizzativa, che comportava anche il cambiamento e il rinnovamento profondo, non solo dei criteri di attività, ma della stessa composizione delle strutture e dei due servizi di polizia giudiziaria che si occupavano di tutto ciò. Il servizio sosse e il gruppo ricerche, che ora si chiama GIVA, è un acronimo che sta a Gruppo Interforze Ricerche e Analisi. Il provvedimento che enunciava e cristallizzava quelle direttrici di marcia è del 5 agosto del 2022, due mesi e quattro giorni dopo l'assunzione delle mie funzioni, che spesi ovviamente questi due mesi per parlare con i colleghi, per avviare importanti contatti con i vertici della Guardia di Finanza dell'UIF, per condividere le linee di evoluzione delle loro relazioni con i magistrati del mio ufficio. Ecco, in questo quadro si inserisce, come dire, quello che mi sembrava un'altra indispensabile esigenza, un profondo rinnovamento dei quadri di polizia giudiziaria addetti a servizio sicurezza, a servizio sosse e appunto a Gruppo Ricerche. Non perché sospettassi, ma perché sembrava, e continua a sembrarmi, un buon criterio quello di introdurre principi di votazione nello svolgimento di incarichi delicati. E c'erano nell'ufficio persone che svolgevano quelle funzioni anche da più di 20 anni, in ogni caso 27-28. Ecco, il personale di polizia giudiziaria. Qui una precisazione, come dire, un po' per così dire, apparentemente fuori disseminato. Lasciatemela fare, perché, come dire, casualmente ho assistito in televisione, ho ascoltato che il sottotenente Streano, come dire, non sarebbe un ufficiale della Guardia di Finanza, perché, come dire, un importante giornalista va definito un impiegato della Direzione Nazionale Antimafia. Normalmente, come dire, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i magistrati, gli analisti e il personale amministrativo lavorano a comica a comica, quindi non ne faccio una questione, per così dire, di appartenenza. Ma vuole semplicemente precisare che il sottotenente Streano, come tutti gli altri addetti al servizio SOS e alla banca dati, era un appartenente a servizi di polizia giudiziaria, nel suo caso la Guardia di Finanza, era inserito nella relativa organizzazione, era stato da quell'organizzazione selezionato per svolgere le sue funzioni, era stato da quell'organizzazione assegnato e riassegnato alla Direzione Nazionale Antimafia, dopo essere divenuto ufficiale al DNA in occasione del primo concorso riservato ai sottoufficiali per transitare nei voli ufficiali, era accreditato per l'accesso alle banche dati della Guardia di Finanza, sottoposto ai poteri di comando, vigilanza e controllo disciplinari propri del corpo. Tutto ciò lo dico anche per sottolineare il contributo che io ho avuto grandissimo dal vertice della Guardia di Finanza, la manovra che ha visto sostituire gran parte dei finanzieri del servizio SOS trovati al momento del mio arrivo, sostituendoli con ispettori giovani, capaci, selezionati su mia richiesta, nel senso che io ho formulato la richiesta ma la selezione è avvenuta autonomamente da parte dei comandanti della Polizia Valutaria e dello SCICO, secondo criteri e la mia raccomandazione di eccellenza. È un nuovo valente e rigoroso ufficiale della Guardia di Finanza, grazie alla collaborazione della Guardia di Finanza, e dal novembre del 2022, quindi era la guida del gruppo SOS, e il maggiore marmorale che è qui al mio fianco, che all'epoca era capitano, e che ha dato una guida sicura della pratica corrispondenza delle procedure e dei comportamenti quotidiani a regole e principi essenziali, consentendo anche di rilevare le anomalie relative alla gestione di procedure da tempo aperte e sviluppate, senza che tuttora possa comprendersi quali criteri ne abbiano guidato la selezione e appunto lo sviluppo. È ovvio il riferimento che faccio al cosiddetto dossier gravina, che nasce proprio da relazioni dell'allora capitano, oggi maggiore marmorale, su comportamenti del sottotenente Streano, che furono da me immediatamente segnalati al procuratore di Roma, con relazione consegnata l'8 marzo. E credo, no, 2023, l'8 marzo, l'8 marzo, l'8 marzo, no, stavo pensando che giorno è oggi per vedere la distanza, la distanza, ecco, perfetto, oggi è 12, no, l'ho fatto 4 giorni fa, l'ho fatto, oggi è 6, quindi addirittura non si è verificato, no, cercavo un argomento logico per spiegare, per spiegare, come dire, l'equivoco, l'8 marzo è effettivamente impossibile, come dire. Tuttavia, battute a parte, battute a parte, io credo che quella, come dire, quella mia relazione, non vi è prova ovviamente possibilità di prova contraria, ma credo di poter precisare che quell'indagine, poi trasferita alla procura di Roma, avrebbe probabilmente avuto un esito diverso, ripeto, non c'è prova contraria, ma mille altre indagini si sono concluse con l'acquisita prova del singolo accesso abusivo e la richiesta di giudizio del singolo ufficiale di Polizia Giudiziaria. di accesso abusivo, non nei nostri sistemi, credo che sia futuro sottolineare, ma nei sistemi della Guardia di Finanza. In generale, io credo che le condotte attribuite al sottotente estreano impregiudicate le valutazioni possibili soltanto dopo il contraddittorio processuale. Per estensione e sistematicità, mi paiono difficilmente compatibili con la logica della deviazione individuale. È una mia personale valutazione, ma ho una discreta esperienza anche come vittima di autentici dossieraggi abusivi, come quelli ritrovati, per dire, negli archivi paralleli della sede Sismi, affidate al dottor Pio Pompa nel 2006. Ma a parte la mia esperienza, credo che ci siano molti elementi che confliggono con l'idea di azioni concepite e realizzate da un singolo ufficiale ipoteticamente, ripeto, impoteticamente infedele. Certo, credo che uno dei punti importanti, dei più centrali dell'indagine del procuratore di Perugia sia proprio quello di comprendere la figura e il sistema di relazioni del sottottenente estreano. Parallelamente, ovviamente, si procedeva anche a un sostanziale rinnovamento del personale amministrativo addetto a servizio SOS e a una rigorosa disciplina delle sue attività e soprattutto si introducevano criteri obiettivi nella selezione e nell'approfondimento delle SOS, perché per quanto poche, sono migliaia le SOS che vengono trattenute nelle nostre banche dati in conseguenza di quel matching positivo e ovviamente, dal mio punto di vista, è un problema dar conto dei criteri di priorità adottati nella trattazione di masse informative così ampie, anche se, come ripeto, notevolmente più ristrette rispetto a quelle astrettamente considerabili. Qui si sono stati fissati criteri vigorosi nella scelta delle materie informative da sviluppare, esclusivamente, lo ripeto, nella prospettiva dei delitti di criminalità organizzata e terrorismo e con riguardo esclusivo ad essi. Oggi quattro magistrati partecipano attivamente alla gestione del servizio SOS, trattano i relativi fascicoli secondo criteri di assignazione automatica, osservano le regole poste a garanzia della tracciabilità e della costante verificabilità di ogni attività. L'ultimo punto che mi sembrava importante è che corrispondeva alle cose che da procuratore distrettuale provavo a dire, è che la gestione fosse aperta a contributo alla partecipazione dei procuratori distrettuali. La stessa conoscenza dei meccanismi di funzionamento del servizio SOS e i relativi processi decisionali fossero aperti alla partecipazione dei procuratori distrettuali. È un tema che non riguarda solo le SOS, è un tema che riguarda ogni significativo aspetto del processo di organizzazione del mio ufficio e del suo modo di lavorare in questi 21 mesi. I procuratori distrettuali non solo si riuniscono per parlare di questioni organizzative e non soltanto di temi investigativi, ma poi con i procuratori distrettuali diamo vita a gruppi lavoro congiunti che esaminano le questioni e poi sottopongono le loro valutazioni alla riunione plenaria del procuratore nazionale con tutti i procuratori distrettuali. Fu immediatamente istituito già a settembre 2022 anche un gruppo di lavoro sul servizio SOS, sul modo in cui gestire le SOS, al quale diede un loro contributo il procuratore della Repubblica di Firenze e di Venezia. Ora, io dovrò illustrare sinteticamente, ma ciascuno di questi singoli crinali problematici, e mi dispiace perché mi rendo conto che toglierò molto tempo prezioso all'attività della Commissione, però vorrei anche preliminarmente chiarire che la prospettiva generale che ha guidato la mia azione comprende anche temi e aspetti tanto fondamentali quanto solitamente oscurati. Da tempo, da tempo, i miei interessi dal punto di vista della conoscenza dell'amministrazione della giustizia in particolare e dell'amministrazione dello Stato più in generale, rifletto, fortunatamente non da solo, sulla straordinaria debolezza delle reti digitali, delle reti informatiche, innanzitutto dell'amministrazione della giustizia. Sul punto potrò tornare, ma in forma riservata in questo caso, quindi essendo in corso delicate indagini, una debolezza delle reti informatiche, soprattutto dell'amministrazione della giustizia, non soltanto dinanzi agli attacchi che possono essere interni o anche esterni, cioè gli attacchi ai dati riservati, ma anche determinata dalla sproporzione tra la dimensione digitale del crimine organizzato e del terrorismo e la capacità investigativa del nostro law enforcement system. Il cyberspace è oggi il cardine organizzativo fondamentale tanto della criminalità organizzata che del terrorismo. Se c'è un tratto in comune dei due fenomeni, è proprio questo. Nel senso che la dimensione cibernetica ormai governa il modo di funzionare la stessa composizione delle strutture delle organizzazioni criminali mafiose e terroristiche, nel senso che è criterio persino di selezione del leadership, perché alcune leadership richiedono la conoscenza della dimensione digitale. All'interno di quelle reti criminali si sviluppano interi compatti di vera e propria intelligence, come dire, deputati a raccogliere informazioni sulle indagini che si possono anche soltanto potenzialmente sviluppare nei confronti di quelle strutture criminose. Dal mio punto di vista, la conclusione era facilmente raggiungibile e personalmente l'avevo raggiunta da tempo, vale a dire che già oggi, non domani, già oggi, anzi già da tempo, non è più possibile svolgere efficacemente indagini nei confronti delle mafie e del terrorismo senza governare adeguatamente la dimensione cibernetica. Non è un discorso astratto perché in questa dimensione di consapevolezza, che per fortuna è condivisa dal Governo e dal Parlamento, si colloca anche appunto il dialogo istituzionale con il Governo nella prospettiva dell'innazionamento degli agi normativi a protezione della sicurezza cibernetica nazionale. Questo dialogo generò l'accoglimento di proposte del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo che credo importanti. Vi ho già fatto cenno. Il decreto 105 del 2023 del recalo dell'estensione delle funzioni di coordinamento investigativo anche alla materia degli accessi abusivi. Il mio ruolo passa da quello del denunciante, più di colui quale fa una accorata raccomandazione ai dovuti approfondimenti investigativi. Passa invece a quello che è di centro di raccolta informativa e di impulso investigativo. Di queste raccomandazioni ad esempio le rivolse quando comparvero SOS molto più penetranti di quelle di cui oggi discutiamo, quelle che ricordavano un famoso calciatore. Un famoso calciatore perché a mio avviso nei dati che venivano pubblicati emergeva la disponibilità di anni e anni e anni di SOS. Cioè c'era un intero spettro decennale di informazioni finanziarie che riguardavano quel famoso calciatore. Oggi l'Ufficio del Procuratore nazionale antimafia e terrorismo può svolgere una funzione di impulso, è già cominciata a svolgerla, è una funzione di impulso essenziale per trovare connessione e collegamenti tra fatti e persone apparentemente lontane e assicurare il coordinamento di iniziative in precedenza frammentari. È persino paradossale che proprio oggi che il Procuratore nazionale è messo nelle condizioni di esercitare questa azione. Quindi questa azione si discuta del ruolo del Procuratore nazionale nella gestione di uno strumento fondamentale come quello delle SOS. osso pensare che siano discussioni superficiali e sicuramente in palese contrasto con le scelte che responsabilmente il Governo e il Parlamento hanno fatto nell'occasione che prima ricordavo. Quello stesso decreto, su proposta del Procuratore nazionale antimafia, prevede per la prima volta l'ingresso in scena delle operazioni undercover con riferimento agli accessi abusivi ai sistemi inseriti nel perimetro della sicurezza cibernetica nazionale. oltre a prevedere la possibilità di operazioni undercover nel cyber space affidate a tutti gli organi di polizia, cioè carabinieri, guardie finanze e polizia, anche nella materia del terrorismo. Ma c'è di più perché il dialogo istituzionale del quale parlavo ha contribuito anche al varo del disegno di legge dell'intera materia dei delitti cibernetici che il Consiglio dei Ministri ha approvato nello scorso mese di gennaio. Viene una grande necessità, non solo banalmente, per innalzare pene che nella pratica applicazione finora di regola si risolvono quasi sempre in patteggiamenti con pena sospesa. Ho detto una volta, un po' enfatizzando, lo riconosco perché la pena è lievemente superiore, perché l'organizzazione dei reparti è tuttora punita più gravemente o similarmente a un attacco al cuore cibernetico dello Stato, anche i sistemi informativi a sostegno delle funzioni di tutela della sicurezza della Repubblica. Ma non è soltanto un problema di pene, dicevo, tutt'oggi l'esfiltrazione dei dati è una sorta di post factum non punibile, perché è punito l'accesso, indipendentemente dal fatto che avvenga o meno l'esfiltrazione dei dati. E questo è un vuoto normativo autentico che esige di essere riempito. Ma soprattutto il disegno di legge prevede l'estensione di alcune regole processuali dettate da tempo in materia di reati di criminalità organizzata e di terrorismo ai delitti cibernetici. in materia di durata delle indagini, in materia di strumenti di investigazione, di strumenti di ricerca della prova utilizzabili, persino prevede finalmente la possibilità di una, che è speculare al rilevante aggravamento delle pene editali che il disegno di legge prevede, poi di una speciale attenuante per chi non semplicemente collabora, ma coopera alla riduzione del danno provocato con un attacco cibernetico. Ecco, se ci fossero state tali regole, forse le indagini le quali domani dirà il procuratore della Repubblica di Perugia, avrebbe potuto essere molto più incisive, ma non sono state notevolmente, soprattutto dopo il trasferimento degli atti dalla Procura di Roma, ve ne parlerà il collega Cantone, però a me pare opportuno segnalare che il Pubblico Ministero di Roma doveva avere immediatamente e efficacemente individuato le tracce digitali, le impronte per così dire digitali del sottotenente estreano, poi richiese a me informazioni, cioè richiese al mio ufficio informazioni, ma non con una nota indirizzata al Procuratore Nazionale Antimafia, ma con una nota indirizzata al Dottor Laudati, che me la trasmisse con una breviloquente nota di accompagnamento, ma anche riservatamente da assicurazioni sulla figura e il comportamento di quell'ufficiale, che per l'evidente rischio di grave coinvolgimento anche della sola immagine della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, in quella di per sé grave, gravissima e evidente, a me sembravano incaute, come non mancare di fargli presente. Ecco, allora, tanto ciò brevemente si fa per dire premesso, credo che si tratti di fare appello a tutta la pazienza dei componenti della Commissione per esaminare più da vicino le questioni che ho prima soltanto sommariamente indicato. No, io no. Allora, grazie Presidente di aver condiviso il peso della responsabilità della sottrazione del tempo della Commissione. Allora, il 22 giugno del 2022, come dicevo, assumo il diretta responsabilità del Servizio Risorse Tecnologiche, Flussi e Sicurezza. L'8 luglio dello stesso anno chiedo all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia un'ispezione straordinaria per verificare lo stato dell'informatizzazione e degli applicativi in uso presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Come incennavo, l'attività di ispezione ovviamente era, per così dire, supervisionata dagli ispettori, personalmente, anzi dal Capo dell'Ispettorato Generale, che ancora ringrazio per la cura e l'attenzione riservata a mio ufficio, ma era praticamente poi svolta da un valente dirigente della Digisia, della Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati del Ministero e soprattutto dal personale tecnico del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Sicurezza Informatica, il Cini. Richiesi espressamente l'effettuazione dei cosiddetti VAPT, come dire, cioè i test, il stress test sostanzialmente, come dire, voglio dire dei test di vulnerabilità del sistema, che si svolsero a partire da settembre 2022 e rivelavano immediatamente preoccupanti vulnerabilità sia del complessivo sistema informativo Ares e sia della banca dati, come dire, che è al suo interno opera, che è comunemente chiamata SIDDA-Sindana. In particolare l'ispezione ministeriale rivelò criticità sotto il profilo organizzativo, infrastrutturale e di sicurezza, unitamente a una generale obsolescenza degli applicativi del software, oggetto nel tempo di modifiche evolutive prive di razionale e strategico disegno complessivo di ammodernamento. Sul piano organizzativo si rilevava che il Servizio Risorse Tecnologiche e Flussi e Sicurezza, che ormai faceva diretto riferimento a me, si avvaleva di tre risorse tecniche, cioè tre risorse umane, messe a disposizione da Digisia, per fortuna direi, dal 2017, ma chiamate a fronteggiare tutte le molteplici mansioni tecniche, compresa l'esecuzione dei contratti di assistenza sisteministica, di manutenzione evolutiva e correttiva, eccetera, eccetera. Condizioni che avevano di fatto provocato una sorta di profondo, quindi una condizione di difficoltà a seguire ogni procedura, che di fatto aveva determinato un profondo deficit cognitivo dell'intera struttura, del tutto ormai ridotta a non disporre più delle conoscenze necessarie al Governo autonomo, consapevoli dei sistemi, e una sostanziale anche, da un lato, de-responsabilizzazione, e dall'altro lato, subalternità cognitiva rispetto alle scelte del fornitore privato. Sul versante dei sistemi applicativi e della sicurezza, l'ispezione ministeriale rilevava la presenza di diverse vulnerabilità in grado di compromettere l'integrità, la confidenzialità e la disponibilità dei dati trattati. Nel corso delle attività, in poco tempo, gli hacker etici della Cine si impadronirono delle password degli amministratori, degli amministratori che ciò rendeva possibile accedere a tutte le informazioni confidenziali, anche con la possibilità di alterarle o cancellarle. I sistemi e le applicazioni risultavano gravemente vulnerabili a molteplici tipologie di attacco, non quelli esterni, perché il sistema era fuori dalla rete unica giustizia, quindi isolato, rispetto alla rete, ma tante altre tipologie di attacco erano facilmente realizzabili, quindi la scalata di privilegi, le sfiltrazioni di dati, l'installazione di malware, in particolare di backdoor, quindi anche attività di ransomware, dal punto di identità. Molte di queste attività non richiedevano elevate competenze di sicurezza informatica, quindi un giovane hacker etico mi disse che ne potevo provare a fare anch'io, che per lui credo fosse proprio la dimostrazione dell'assoluta semplicità dell'operazione. Si faceva notare che la maggiore parte delle vulnerabilità consentivano a chiunque all'interno della rete, anche senza una valida autenticazione, di sfruttare le vulnerabilità dei sistemi per eseguire attacchi sull'intera infrastruttura dell'ufficio, permettendo a un attaccante di prendere il possesso completo anche delle postazioni di lavoro dei magistrati, mi ricompressa la mia. Significativi rilievi furono operati sotto il profilo dell'infrastruttura delle reti utilizzate, rilevanto la estrema carenza nelle condizioni della rete relativa all'architettura di segmentazione, di segregazione a mezzo VLAN, alla configurazione dei dispositivi di rete, switcher, router e dispositivi di sicurezza, i firewall, i proxy, i reverse proxy, attestando l'esistenza di, anzi, l'assenza di rilevanti meccanismi di monitoraggio e rilievo di eventuali intrusioni. Dico tutto ciò con molto dolore, però, come dire, non per, come dire, attenuare il dolore, ma non sono condizioni dissimili da quelle nel quale si trova l'intera amministrazione della giustizia. L'intera amministrazione della giustizia. Da questo punto di vista, da questo punto di vista, forse può essere utile raccontare di un dialogo recentemente avuto privatamente con, come dire, con Daniele Franco, già ministro dell'economia e delle finanze, a tempo in cui io svolgevo le funzioni di capo di gabinetto del ministro della giustizia e del ragioniere generale dello Stato. Riedendoci, dopo tanto tempo mi ha chiesto notizia di quello che lui ha chiamato, mi dispiacerà, forse, il dottor Franco si dispiacerà se rivelo questa conversazione, però credo che sia utile. E mi chiese come è andato il vostro PNRR per la giustizia. Perché era stato presentato e approvato dal ragioniere generale dello Stato e quindi dal ministro e vi assicuro che non fu in presa facile un piano di investimenti decennale per l'amministrazione della giustizia di ben un miliardo trecento ventuno milioni di euro. Mi ha chiesto com'è andato e gli ho dovuto rispondere non so perché non ho più accesso a questo tipo di informazioni ma credo che sia andato tutto disperso in mille rivoli abbandonando le linee fondamentali di quel progetto. Ed è tema del quale pure converrà discutere perché il ministro della giustizia è l'unico ministro citato in costituzione non perché si occupi di una materia più importante della salute o della sicurezza ma perché ha la responsabilità di assicurare l'organizzazione di servizi relativi alla giustizia che è un presidio fondamentale della condizione di autonomia e di indipendenza della magistratura. Ma questo è un altro discorso. Dunque nel corso delle verifiche e dei test di penetrazione si è avuta contezza di una situazione di grave debolezza. Ovviamente il fatto che quegli attacchi fossero possibili non significa che ce ne siano stati e per quanto è dato di precisare non ce ne sono stati. Ma questo non è per nulla tranquillizzante lo stesso perché mancavano meccanismi di controllo degli accessi per garantire i giusti livelli di autorizzazione pure previsti c'erano credenziali deboli debolissime c'erano praticamente assenti sistemi di tracciamento monitoraggio rilevamento degli accessi anomali c'era soprattutto l'uso di tecnologie obsolete e di mancanza di aggiornamento delle relative componenti e utilizzo di protocolli di comunicazione non cifrati. ecco dinanzi a questa situazione allarmante ovviamente poneva a me dinanzi alla responsabilità di assumere urgenti e tempestive misure misure che sembravano di due tipi da un lato misure urgenti volte a fare nelle condizioni date tutto quanto si poteva fare per mettere in sicurezza i sistemi e dall'altro lato dinanzi alla constatazione della obsolescenza dei sistemi nel loro complesso iniziare a immaginare una nuova rete una nuova struttura una nuova struttura informatica la materia forma oggetto di doverosa informazione al ministro della giustizia Marta Cartabia prima e poi al ministro della giustizia Carlo Norodio necessaria anche proprio per segnalare l'importanza del dovere delle strutture ministeriali di esercitare intanto effettivo controllo sulle prestazioni del fornitore e sulla tenuta effettiva dei sistemi per i quali il ministero pagava denaro dicevo degli interventi urgenti essi sono consistiti da un lato nella pianificazione di tutti gli interventi concretamente operabili nei sistemi in uso ovviamente non sono stato io a fare questa pianificazione ma non era in condizione di farla neanche nella struttura ministeriale abbiamo utilizzato ancora una volta il consorzio interuniversitario per la sicurezza informatica il Cini che è abituale per fortuna partner dell'amministrazione della giustizia da qualche anno da qualche anno e che da alcune settimane svolge anche funzioni di come dire di advisor come dire in loco della sicurezza dei nostri dei nostri dei nostri sistemi quindi si è deciso di mettere immediatamente in sicurezza il sistema di produzione dei certificati di autenticazione adottando policy restrittive per le credenziali richiedendo l'utilizzo di password lunghe e casuali memorizzate in un password manager sistemi di autenticazione a due fattori per le due utenze personali chiunque sappia di appena appena di queste cose dirà ma è tutta roba banale sì era banale ma era sconosciuta l'amministrazione della giustizia nel suo complesso il mio ufficio è stato il primo che ha utilizzato l'autenticazione MFA cioè multi factor authentication inoltre si è proceduto nella direzione dell'attuazione di misure di contesto segmentare e segregare la rete interna dividendo la rete server dalla rete delle postazioni degli uffici cambiare con frequenza le credenziali di accesso RDP a tutti gli utenti presenti sul server cambiare i pin di tutti i certificati presenti sull'applicativo introducendo requisiti più forti cambiare le credenziali di default dei vari dispositivi e servizi all'interno della rete e introdurre anche una sorta di asset management dei dispositivi delle macchine all'interno dell'ufficio direte ma questo è il lavoro del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo purtroppo anche questo è il lavoro che credo sia necessario fare da procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ho assunto anche l'iniziativa di convocare e presidere uno stabile tavolo di lavoro con il capo del dipartimento della transizione digitale prima con il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati a cui è stato chiamato non soltanto il fornitore quasi monomandatario ma anche la mandante del raggruppamento di imprese che aveva in gestione la banca dati perché furono chiamati a rendere conto della responsabilità di un piano di superamento delle più gravi criticità rilevate quindi aggiornare subito la sicurezza del software di base configurare in modo sicuro la piattaforma di procedere all'autenticazione dell'amministratore applicativo configurazione sicura delle credenziali degli utenti finali cifratura dei fall temporanei e dei sistemi di catching cifratura trasparente delle banche dati integrità dei backup comunicazione cifrata e autenticata dei componenti cifratura dei log applicativi ne è conseguito faticosamente un primo necessario adeguamento dei moduli di Siris e Ares passaggio a un nuovo sistema tuttavia figlio del vecchio di cui è in fase di completamento una faticosa e attravagliata attività di collaudo che ancora una volta ha messo in luce l'approssimazione di alcuni interventi del fornitore l'obsolescenza dei framework e la mancanza di una trasparente modalità di ingaggio con il committente ora quindi questa fase ormai si è chiusa perché da essa dipende il completamento della sicurizzazione dei rilasci fatti e la chiusura definitiva del collaudo che però è già concluso sotto il profilo funzionale in questo ambito specifiche modifiche evolutive alcune concluse altre in via di conclusione sono state dedicate al trattamento delle SOS anche a seguito dei recenti protocolli con le altre autorità interessate i problemi riguardavano non solo le SOS stavano poi finiscono nella banca dati il problema riguardava anche la disciplina del sistema informativo della procura nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali della Repubblica se ne parla tanto ma insomma senza sapere di che cosa si tratta l'articolo 117,2 bis del codice di procedure prevale prevede intuizione geniale di Giovanni Falcone al quale si deve questa norma è una norma inserita nella legge istitutiva anzi nel decreto legge istitutivo della direzione nazionale allora soltanto antimafia e siamo nel 1991 quindi si può misurare per così dire la lungimiranza della previsione l'articolo 17,2 bis prevede l'istituzione di banche dati logiche delle procure distrettuali realizzate nell'ambito della banca dati condivisa della direzione nazionale antimafia si tratta di uno strumento essenziale alle funzioni di impulso e coordinamento investigativo del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ho sentito qualcuno dire che forse se ne può fare almeno personalmente non avrei nulla in contrario quindi troverei cose più divertenti e interessanti da fare però senza questo centro non potrebbe funzionare l'intero sistema di raccordo delle banche dati delle procure distrettuali basterebbe questa ragione forse a spiegare l'approssimazione di alcune di alcune affermazioni ma non è ovviamente l'unica dal mio punto dal mio punto di vista certamente la banca dati è uno strumento fondamentale della pienezza non soltanto delle funzioni di impulso del procuratore nazionale antimafia è uno strumento fondamentale della effettività delle funzioni di direzione delle indagini da parte di ciascun magistrato delle procure distrettuali il quale ha a disposizione l'intero patrimonio informativo se la banca dati è correttamente implementata rilevante per l'orientamento delle indagini nei procedimenti a lui avviati ovviamente parliamo dei procedimenti di criminalità organizzata e di terrorismo in tale prospettiva il consiglio superiore della magistratura sin dalla seduta plenaria del 26 gennaio 1994 ha più volte richiesto ai procuratori distrettuali di adempiere il dovere del completo e tempestivo inserimento degli atti di indagini processuali dicendo che andava fatto secondo regole definite di intesa tra procuratori distrettuali e procuratori nazionali questa posizione è stata poi recepita al CSM e anche con delibere che il senatore Zanettini certo ricorderà del luglio 2001 e del luglio 2002 e anche negli anni successivi in particolare la delibera del 18 marzo 2014 nel dare atto dell'impegno della DNA nella realizzazione del sistema integrato di banche dati un impegno che conosco personalmente perché ho fatto parte di questo ufficio anche come sostituto procuratore nazionale per più di 8 anni dal 2001 al 2009 dicevo questa delibera raccoglie le indicazioni di precedente delibera del 25 luglio 2012 in cui oltre a richiamare ancora una volta l'importanza del continuo corretto regolare inserimento degli atti e dei procedimenti nel sistema da parte delle procure distrettuali delle procure distrettuali stabilendo che esso costituisce adempimento di uno dei doveri del coordinamento investigativo perché anche questo è un segno della come dire dell'acutezza della visione di Giovanni Falcone del legislatore del 1991 il codice del 1988 parlava di cosa fanno i pubblici ministeri quando le indagini sono collegate fra loro ma sostanzialmente rimetteva la volontà del pubblico ministero alla scelta se coordinarsi o meno un illustre processuale penalista come Franco Cordero certo non sospettabile di cedimenti sul versante della cultura delle garanzie ebbe a dire ma se è così allora il PM si coordina soltanto se vuole nel 1991 la norma che regola lo statuto processuale della procura nazionale antimafia e antiterrorismo l'articolo 371 bis improvvisamente definisce tutte quelle attività che i pubblici ministeri devono fare per operare correttamente in un raccordo tra informativo e operativo tra loro li chiama i doveri del coordinamento investigativo l'attuazione di questi doveri richiede e la delibera del 2012 e del 2014 del Consiglio Superiore ne fanno espresso richiamo come dire comportava l'opportunità di una regolamentazione del sistema delle banche dati da parte dei procuratori distrettuali e del procuratore nazionale a cui spetta indirizzarne l'azione in tale contesto pur a distanza di 12 anni da quella così autorevole indicazione si è operato per introdurre un regolamento del sistema informativo della direzione nazionale antimafia e delle procure distrettuali della Repubblica nella riunione plenaria del 10 luglio 2022 quindi siamo ancora prima del periodo feriale che seguiva di poco l'assunzione delle mie funzioni viene formato uno di quei primi gruppi di lavoro congiunto in questo caso vi partecipano alle procure distrettuali di Bari di Cagliari di Napoli e di Palermo i quali mettono a punto lo schema di nuovo regolamento il primo regolamento congiunto che poi viene sottoposto all'esame di tutti gli altri nella ricchezza di quel dibattito degli apporti conoscitivi si è condivisa la necessità per un verso di procedere all'indefettibile e urgente innalzamento dei livelli di sicurezza infrastrutturale e sistemica e dall'altro lato sulla necessità di un'equilibrata combinazione delle esigenze di circolazione delle informazioni e delle esigenze di riservatezza delle stesse a fronte di un innovato impegno di tutti i procuratori distrettuali a implementare la banca dati ecco quindi il primo regolamento della banca dati è stato così approvato nella riunione plenaria con i procuratori distrettuali del 3 febbraio 2023 e poi adeguato alle nuove funzioni in materia di sicurezza cibernetica lo scorso 7 dicembre ho prima chiesto se il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si deve occupare degli aspetti persino tecnici della gestione dei contratti che fanno capo all'amministrazione della giustizia o delle caratteristiche dei sistemi digitali che proteggono la sicurezza dei sistemi ho dato risposta positiva ho maggiore difficoltà a dare risposta positiva alla domanda che poi mi sono posto più volte tocca a me andare alla ricerca delle risorse finanziarie per passare invece a un nuovo progetto di banca dati tocca a me cercare le partnership nel mondo accademico nel mondo istituzionale per realizzarlo qui devo dire che la risposta è imposta dalla povertà tecnologica e finanziaria del ministero della giustizia da un lato e dall'altro lato nella logica della cooperazione istituzionale ed è questa l'occasione per me per ringraziare pubblicamente la banca italia il governatore Fabio Panetta ma anche il governatore Vincenzo Visco il vice direttore generale Cipollone ora nel board della BCE ma poi per ringraziare in particolare l'unità di informazione finanziaria il consorzio Cini l'università Federico II di Napoli e anche dirigenti della DGC del ministero perché si è costituito un tavolo per progettare la nuova banca dati un progetto pensato per garantire un'architettura coerente con la neutralità del nostro ruolo sarebbe stato facile andare alla ricerca e mettere il progetto sul mercato per così dire quindi andare alla ricerca del denaro necessario per finanziare un progetto ma i progetti affidati al mercato dal mio punto di vista risentono come giusto inevitabile che sia delle logiche del mercato dal mio punto di vista era necessario avere un sistema quindi visti i prezzi pagati dal precedente quindi pensato tenendo conto dell'autonomia dell'indipendenza delle istituzioni giudiziarie che devono utilizzarle e per questo la richiesta di collaborazione è stata è stata indirizzata a istituzioni ovviamente molto diverse ma che hanno in comune una cultura dell'autonomia del proprio statuto come appunto da un lato da un lato Banca Italia e dall'altro lato il sistema il sistema universitario fatto questo primo passo siamo andati alla ricerca ai finanziamenti e qui devo svolgere altri ringraziamenti i ringraziamenti li devo al ministro Matteo Piantedosi al capo della polizia Vittorio Pisani per aver deciso di destinare una parte delle risorse dai fondi europei destinate alla prevenzione della sicurezza pubblica alla costruzione della nuova banca dati per fortuna non ho avuto la sensazione di procedere a questo a sollecitare queste collaborazioni istituzionali ma in realtà più che una fortuna è l'effetto riflesso della profonda consapevolezza che tutte queste istituzioni hanno del ruolo che la banca dati svolge proprio nel sistema della sicurezza e nella garanzia di efficacia dell'attività di indagine dell'attività complessivamente di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e del terrorismo ecco ora eviterò di tutti coloro i quali hanno partecipato anche i miei colleghi all'elaborazione di questo progetto si dispiaceranno che io non ne tracci tutti i contenuti che ne dovrebbero definire le magnifiche sorti progressive l'unica cosa che mi sembra importante dire è che finalmente è stato approvato quel piano di finanziamento il piano di finanziamento sono state approvate da due linee di finanziamento dal ministero dell'interno una per 38 milioni e un'altra che è ancora in fase istruttoria voglio dire di circa 7 milioni nell'ambito appunto del piano nazionale sicurezza per la legalità allora ovviamente la sicurezza della sicurezza della banca dati la sicurezza della banca dati non era l'unico quindi la sicurezza dei sistemi informativi non è l'unico aspetto della sicurezza dei dati che vengono immagazzinati in quei sistemi è un problema relativo alle misure da tuttare sulle infrastrutture e gli interventi riguardano il centro di elaborazione dati della DNA le reti di palazzo il sistema wifi e anche da questo punto di vista risparmio la commissione una elencazione della faticosa attività fatta per rimettere in piedi questi architravi dei sistemi di sicurezza dei sistemi di sicurezza ma poi anche per fornire alle procure distrettuali nuovi servizi oggi siamo finalmente in grado di assicurare sistemi di videoconferenza cifrata perché fino ad oggi invece le sistemi di videoconferenza viaggiavano sulla rete unica giustizia su Teams che non è esattamente dal punto di vista ovviamente della tutela del segreto investigativo come dire un'assoluta assoluta assoluta sicurezza oggi c'è quella rete cioè quella rete la stiamo dispiegando già alcune procure ne sono ne sono dotate ovviamente sono stati ripensati come dire le soluzioni di backup di restore dei dati persino dati delicati come quelli dei colloqui investigativi voi sapete il procuratore nazionale antimafia ha sin dal 1991 la possibilità di svolgere colloqui investigativi con detenuti per raccogliere elementi utili a fine di impulso investigativo sono atti non utilizzabili sono atti non utilizzabili che siano appunto per orientare l'azione di impulso in molti casi sono stati utilissimi questi atti erano tra 30 anni conservati soltanto in dimensione cartacea in dimensione cartacea e anche i supporti che contengono le registrazioni di questi colloqui erano affidati a floppy disk e a dvd cdrom tutto ciò è stato necessario costruire un ambiente di storage in grado di preservarne la possibilità di documentazione così come è stato messo in piedi un sistema di monitoraggio delle anomalie comportamentali che è ancora in fase di implementazione perché è legato alla complessiva securizzazione del sistema il sistema della sicurezza è complesso l'ho detto in anticipo quindi non è importante soltanto ciò che facciamo noi è importante anche ciò che facciamo noi insieme con gli altri perciò bisognava anche bisognava anche avviare nuove interlocuzioni con la Guardia di Finanza l'UIF e la Banca d'Italia per rinnovare i protocolli di intesa e rinnovarli nella specifica prospettiva della sicurezza dei dati e della tracciabilità delle operazioni e dopo preliminari interlocuzioni già nel luglio del 2022 condividevo con il Comando Generale della Guardia di Finanza l'esigenza di superare i precedenti protocolli tecnici anche nella prospettiva della sicurezza della sicurezza dei dati e della sicurezza dei dati il protocollo ha messo a disposizione perché non contiene nessun profilo di segretezza né tanto meno di riservatezza a pari di quello stipulato il 30 novembre del 2022 il primo è del 10 novembre del 2022 tra la Direzione Nazionale Antimafia e la UIF con le quali abbiamo notevolmente rafforzato anche proprio gli interscambi informativi che servono ai reciproci fini ai reciproci fini istituzionali vengo all'ultimo protocollo che è il più importante perché è quello che regola governa l'intero sistema di gestione dei flussi informativi legati alle SOS quando fa quel gesto non è per dire di smetterla ok è il protocollo fatto con la Guardia di Finanza il Dipartimento della Pubblica Sicurezza il Capo della Polizia cioè l'Unità di Informazione Finanziaria il 21 dicembre del 2023 è stato necessario lavorare molto è stato costituito un gruppo di lavoro con i tecnici di queste istituzioni perché si trattava proprio di escogitare soluzioni tecniche che ruotavano intorno alla piattaforma informatica che regola i flussi ma era un lavoro necessario per le criticità che sono state concordamente rilevate la presenza di scambi informativi a mezzo di supporti informatici fisici in assenza di adeguati presidi di sicurezza e questo dimostra anche una cosa che non è il problema di sicurezza è un problema soltanto della Direzione Nazionale Antimafia la Direzione Nazionale Antimafia può dire di averlo affrontato e l'ho affrontato insieme alle altre istituzioni che pure condividevano quelle criticità e che hanno inteso con noi superarle vi erano anche problemi pratici perché c'erano pesantimenti dei processi di lavoro uso di formati diversi ma in generale il nuovo protocollo consente il superamento di tutte le criticità attraverso queste semplici ma radicali innovazioni tutte le informazioni vengono gestite esclusivamente attraverso il portale SAFE della Banca Italia di UIF per tutti i flussi connessi alle segnalazioni di operazioni sospette incrementando anche previa crittografia il livello di sicurezza generale ed eliminando totalmente gli scambi a mezzo supporti fisici piena condivisione reciproca conoscibilità dei flussi eliminazioni dei duplicati uniformità dei formati e dinamicità delle intese protocollari perché è stato istituito un tavolo tecnico permanente che opera proprio per individuare sul campo tutti i profili dei quali non è possibile tenere presente e tenere al momento in cui si definisce una nuova architettura una nuova architettura un tavolo tecnico permanente grazie al quale è ormai imminente anche il rinnovo del protocollo bilaterale tra la DNA e la DIA in materia di segnalazione di operazioni sospette ci avviciniamo alle questioni di più immediato interesse perché ovviamente la riorganizzazione ha dovuto affrontare anche i nodi legati al funzionamento del servizio SOS e del gruppo ricerche come ho detto se il 22 giugno avevo assunto il diretto controllo del servizio risorse tecnologiche flussi e sicurezze secondo i vigenti criteri di organizzazione dell'ufficio che si sono regolati da procedure stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura l'attività del servizio SOS continuava a essere curata da un procuratore aggiunto coordinatore e dal magistrato incaricato al quale soltanto faceva capo la quotidiana gestione in particolare del gruppo SOS tanto almeno fino alla complessiva riorganizzazione del settore completata nella seconda metà del mese di novembre quindi non appena perché nella seconda metà perché era necessario fare il protocollo con la Guardia di Finanza al protocollo della Guardia di Finanza sarebbe seguito l'innesto di nuove strutture e persino la nomina come nuovo referente del gruppo SOS dell'allora capitano Eugenio Marmorale quel protocollo era il necessario presupposto il caso ha voluto che nel completamento del processo di riorganizzazione coincidesse con la notizia dell'individuazione del sottonente estreano come responsabile dell'accesso abusivo ai sistemi non della DNA utilizzati per capire informazioni sul conto del ministro Guido Crosetto il maggiore Marmorale riceve notizia del suo trasferimento deliberato il 21 novembre se non sbaglio del 2022 ma devo dar atto al comandante delle parti speciali della Guardia di Finanza e al comandante del nucleo di protezione valutaria di allora il generale Giordano che mi avevano già assicurato che avrebbero provveduto a selezionare un ufficiale un ufficiale destinato a divenire presto ufficiale superiore secondo criteri di eccellenza ritornando alla materia delle sosse dopo una preliminare raccolta dei dati che il 14 settembre trasmissi a DGC anche in vista dell'avvio delle operazioni ispettive convocai il 4 agosto una prima riunione del servizio sossa a cui parteciparono entrambi i procuratori giunti il magistrato che è incaricato del servizio quindi dal 10 settembre 2014 era designato coordinatore del predetto servizio allora parte del cosiddetto polo di interesse quindi contrasto patrimoniale adesso non ricordo la denominazione esatta e dal marzo 2021 adottato un nuovo programma organizzativo della dna per il triennio 2020 2021 era stato designato dal procuratore nazionale protempo il quale incaricato del progetto per la gestione delle sosse attribuendo però il coordinamento del servizio nel quale il progetto sosse si inseriva ad un procuratore aggiunto partecipò anche il tenente estreano che è ufficiale di polizia giudiziaria più alto in grado era anche l'unico ufficiale ma era il più alto in grado che quindi di fatto svolgeva una funzione di coordinamento del gruppo oppure mancanza di qualsivoglia formale attribuzione di incarico al termine della riunione e sulla base degli elementi acquisiti nel corso della stessa e di quelli poi trasmessi su mia richiesta dal procuratore aggiunto ancora coordinatore del servizio il giorno successivo era semplice perché il bisogno di conoscere come funzionasse questa attività era così evidente che persino il procuratore generale presso la Corte di Cassazione in quella riunione che prima ho citato che si era svolta nel 2020 nell'ottobre se non sbaglio aveva chiesto al procuratore nazionale di trasmettere un appunto che spiegasse quindi il funzionamento e quindi appunto che fu puntualmente trasmesso e che io e che mi viene poi come dire consegnato il 5 agosto nella stessa data io quindi adotto il primo formale provvedimento disponendo una formale ricognizione dell'andamento del servizio da completare entro il successivo 5 settembre a cura del procuratore aggiunto di riferimento è un provvedimento no il magistrato incaricato del progetto prima era il dottor Laudati il procuratore aggiunto coordinatore del servizio risorse tecnologiche flussi e sicurezza anzi no del servizio contrasto patrimoniale perché delle risorse tecnologiche quindi avevo già assunto la diretta responsabilità e invece il dottor russo allora con questo primo provvedimento quindi chiedo una ricognizione illustrativa dei criteri gestionali delle modalità attuative degli scambi informativi chiedo di acquisire i dati afferenti ai flussi SOS per un periodo 2019 e 2021 comprese le informazioni fornite dall'UIF di tale atto do comunicazione anche a tutti i procuratori distrettuali per ragioni riferite a quella mia visione che impone la condivisione più ampia possibile di tutti i processi decisionali del mio ufficio perché è necessario è più faticoso condividere ma è necessario per rendere effettiva la funzione di servizio e supporto delle procure distrettuali e in questo provvedimento già annuncio che avrei assunto la responsabilità anche del servizio SOS e che il servizio SOS avrebbe dovuto funzionare secondo parametri di rigorosa come dire trasparenza correttezza tracciabilità delle proprie attività e della loro rigorosa attinenza alle funzioni proprie del procuratore nazionale antimafia antiterrorismo la materia poi ovviamente come dire dopo si conclude la riconizione nei primi giorni di settembre 2022 il 21 settembre condivido i risultati di questa riconizione con tutti i procuratori distrettuali si mette in moto il procedimento previsto dalle regole del Consiglio Superiore della Magistratura per modificare il programma organizzativo che regolava il funzionamento del il funzionamento del il funzionamento del del servizio SOS ci metto come dire due mesi due mesi perché perché il procedimento si nutre anche dell'apporto di quel gruppo dei procuratori distrettuali di quel gruppo di di quel gruppo del quale facevano parte i procuratori distrettuali di Firenze e Venezia e il 18 novembre 2022 viene adottato il decreto 280 con il quale in considerazione del ruolo centrale assegnato la DNA nel sistema nazionale di prevenzione del rischio di utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio e di finanziamento e terrorismo ruolo centrale che pregredi non perder mai di vista perché ne verrebbe gravemente pregiudicata la stessa la stessa idea del ruolo della magistratura tutta nel nel governo delle indagini afferenti a questi fenomeni criminali così così gravi e pericolosi quindi dicevo in considerazione del ruolo centrale venivano dettati tutta una serie di disposizioni in particolare con questo decreto il procuratore nazionale assumeva il diretto coordinamento del servizio SOS e quindi anche dell'attività del gruppo SOS cioè degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle analisi il luogo della presidente composizione magistratuale monosuggettiva a servizio venivano addetti tre sostituti dei quali uno della sezione antiterrorismo a quest'ultimo era riservata la trattazione delle relative delle relative procedure restando confermato che soltanto ai sostituti era riservato come logica naturale la cura dell'attività di raccolta analisi e elaborazione dei dati naturalmente erano dettate direttive generali in uno a criteri di predeterminati di ripartizione degli affari tra due sostituti con decreto del 5 dicembre 2022 vengono nominati tre sostituti accanto al dottor Daudati due sostituti nuovi la dottoressa Barbara Sargenti e il dottor Paolo Savio ovviamente previo interpello generale allo Stato risultano assegnati quattro sostituti che sono la dottoressa Sargenti il dottor Savio la dottoressa Palaia e il dottor Di Turo avendo lo scrivente con ordine di servizio del 15 giugno 2023 revocato al dottor Laudati su sua richiesta la delega delle funzioni di collegamento investigativo con la procura distrettuale di Poiugia che svolgo personalmente nonché l'assegnazione del medesimo magistrato al servizio operazioni finanziarie sospette dicevo che il sottotenente Striano era presente alla riunione del 4 agosto e la presente alla riunione del 4 agosto non avevo mai avuto colloqui con lui e ne ebbi successivamente soltanto uno il 22 agosto a seguito di ripetute richieste del predetto e di altre sollecitazioni a incontrarlo l'incontro durò pochi minuti perché si risorse nella mia richiesta di ricevere in via riservata un suo appunto contenente quindi indicazioni di problemi di eventuali proposte un appunto che ho riscetti dopo pochi giorni di questo appunto erano caposaldi i suggerimenti di rafforzare la posizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria più alto in grado lo stesso striano con un formale provvedimento e di continuare ad affidare il coordinamento del servizio SOS ad un solo magistrato naturalmente non tralasciai di verificare l'unica circostanza che mi sembrava degna in nota aveva indicato un rilevante ritardo nell'analisi di numerose SOS in materia di terrorismo che era attribuita dal sottottenente striano a una conflittualità con gli ufficiali di polizia giudiziaria e anche della Guardia di Finanza che lavoravano nel gruppo di ricerche che faceva capo al procuratore aggiunto russo fino al 22 giugno 2022 e poi a me questo inconveniente fu superato ma la lettura di questa proposta per così dire di questo appunto era abbastanza per confermare la necessità di un avvicendamento e proseguire con determinazione sulla strada della completa ristrutturazione del servizio SOS l'avvicendamento come ricordavo avvenne nel novembre 2022 con casuale coincidenza con la messa a disposizione da parte del comandante da valutare del capitano Marmorale ed è la notizia pervenuta con formalità che io sommessamente definisco anomale dell'esistenza del procedimento penale originato dalla denuncia del ministro Crosetto perché regola non scritta ma costantemente osservato che la richiesta di informazioni sull'attività di un ufficio viene rivolta al dirigente di quell'ufficio mentre la missiva era indirizzata era indirizzata al dottor Laudati allora con altri provvedimenti vengono disciplinate le attività sia del gruppo di lavoro SOS e del gruppo ricerche si introduce da prassi dei rapporti di report trimestrali di un report annuale l'utilizzo di specifici registri informatici per garantire la tracciabilità dell'attività nuove disposizioni per il rilascio di credenziali eccetera 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 potrei trattenervi ancora parecchio tempo a parlare di tutto ciò mi interessa sottolineare soltanto un aspetto previsto dal provvedimento organizzativo che regolava queste attività il punto utilizzo delle banche dati e relative procedure di abilitazione e disabilitazione il mio provvedimento dice per lo svolgimento dei compiti demandati al gruppo di lavoro SOS i singoli componenti potranno avvalersi delle banche dati in un sola DNA di cui all'allegato elenco e di quelle messe a disposizione dalle rispettive amministrazioni di appartenenza e potranno attresi utilizzare apposi e cartelle condivise in rete eccetera eccetera nell'ottica di assicurare la riservatezza nell'esecuzione dei compiti affidati referente del gruppo di lavoro come dire previa giornata ricognizione delle abilitazioni già date all'accesso alle banche dati nella disponibilità della DNA rappresenterà per iscritto al procuratore nazionale ogni esigenza di abilitazione e di eventuale revoca delle credenziali già attribuite inoltre laddove nel corso degli approfondimenti del gruppo di lavoro si diventa necessario consultare il registro quindi il registro generale delle notizie del reato la relativa richiesta sarà trasmessa al servizio risorse tecnologiche cioè al procuratore nazionale per la necessaria autorizzazione il referente cui l'invio eccetera di depositi report trimestrali soprattutto questo provvedimento come dicevo reca traccia dell'indicazione di criteri di priorità nella selezione delle soste da trattare le soste da trattare prioritariamente sono quelle che corrispondono a richieste innanzitutto delle procure distrettuali che hanno la precedenza assoluta quindi richieste dei coordinatori delle sezioni nelle quali è suddivisa l'articolazione interna della procura nazionale perché una sezione esistono varie sezioni la sezione drangheta la sezione camorra la sezione costanostra la sezione nuove mafie e così via eccetera eccetera queste sezioni sono il luogo di elaborazione per così dire delle proposte di impulso investigativo e devono quindi potersi nutrire anche delle informazioni derivanti dalle soste ma è il frutto di una decisione che prende la sezione il suo complesso che è garantita dal ruolo di coordinamento del procuratore aggiunto delegato poi singoli magistrati della DNA hanno facoltà di richiedere hanno facoltà di richiedere di richiedere ovviamente ricerche e approfondimenti al gruppo al gruppo al gruppo SOS al gruppo SOS ogni altra esigenza di approfondimento è segnalata dal referente del gruppo SOS per iscritto al procuratore nazionale che dispone nel caso sono regole che sono state fissate con l'intesa con i procuratori distrettuali ovviamente tutto ciò determinava anche l'esigenza lo accennavo di un profondo rinnovamento della struttura il gruppo di lavoro SOS era composto da tre unità della via e da cinque unità della valutaria cinque di queste otto unità sono state avvicendate tutti i predetti militari facevano parte di un nucleo originario di otto unità presenti a momento del mio insediamento sono stati sostituiti sostituiti in realtà non esattamente perché intanto sono arrivate tre nuove unità della valutaria perché sono in attesa di effettiva assegnazione di altre tre unità della guardia di finanza però da parte del direttore della messa a disposizione del direttore della DIA questa precisazione mi consente anche di precisare alcune cose sul sottottenente estreano perché alla luce delle notizie di stampa al di là della curiosa definizione del sottottenente come impiegato della direzione nazionale antimafia vorrei dare rilievo alla cronistoria del suo impiego presso la direzione nazionale antimafia allora il sottottenente estreano anzi il luogotenente estreano era in forza alla DIA affardata dal 3 maggio 1999 lo indico a riprova del carattere generale dell'esigenza di delimitare nel tempo la permanenza nei più delicati organismi nelle più delicate nelle più delicate posizioni quindi era in forza la DIA già dal 3 maggio 1999 nel primo luglio 2016 è stato impiegato nel grado di luogotenente presso il gruppo SOS della DNA proprio in base al protocollo DNA DIA dal settembre 2018 al 19 gennaio 2019 ha frequentato il costo per ufficiali della guardia di finanza riservato gli ispettori del medesimo corpo che ha vinto al primo tentativo ritorna in DIA e quindi ritorna in DIA per un carico non meglio precisato nel gennaio dal gennaio 2019 al 12 febbraio 2019 e il 13 febbraio probabilmente è un periodo di mera transizione rientra nell'amministrazione di appartenenza e viene riassegnato dalla polizia valutaria alla DNA dove ha prestato servizio come ufficiale di collegamento con il nucleo speciale della polizia valutaria fino al 23 novembre 2022 quando ne ho richiesto il rientro al reparto di appartenenza non meno per così dire radicali sono stati gli interventi necessari per corrispondere alle esigenze di rotazione di avvicendamento come dire è necessario anche mettere nuove entusiasmi nuove competenze come dire e anche ringiovanire i quadri il gruppo interforza ricerca analisi cioè il gruppo che fa ricerca nella banca dati ha visto avvicendare 19 delle 40 unità 19 appartenenti all'arma dei carabinieri alla polizia di stato alla guardia di finanza e alla dia che sono state sostituite con nuove unità selezionate in autonomia dall'arma dei carabinieri dalla polizia di stato dalla guardia di finanza dalla dia in un caso anche dalla polizia penitenziaria come si può quindi 5 più 5 più 4 più 1 più 2 meno di quelle come dire delle quali si è richiesto l'avvicendamento a dimostrazione che non come dire che non si tratta che non si è ricercato di aumentare il numero degli analisti ma di ricevere garanzie su capacità e correttezza ecco io credo che come dire adesso sono in condizione di fatto questo quadro di rispondere alle vostre domande di chiarimenti o di integrazioni che riferite probabilmente immagino alle due agli unici cosiddetti dossier in qualche modo come dire riconducibili alle attività svolte nel periodo in cui ho svolto le funzioni di procuratore nazionale antimafia dico in qualche modo perché entrambe hanno formato oggetto di rilevazione e denuncia quindi del procuratore del procuratore nazionale antimafia in un caso si tratta di attività di attività compiute eh anteriormente quindi e nell'altro caso quello del ministro Crosetto si tratta di attività svolte sì durante il 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 mio periodo di dirigenza ma di attività svolte su banche dati della guardia di finanza mediante macchine della guardia di finanza e poi giustificate questo è un caso divertente con un'attività di accertamento pre-investigativo di accertamento pre-investigativo documentate con una relazione trasmessa a me per il tram della polizia valutaria circa tre mesi dopo averne chiesto l'allontanamento improvvisamente giunge in busta chiusa una 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 relazione è interessante notare che in questa relazione che tra virgolette il dossier sul ministro su ministro Crosetto non c'è traccia di alcuna SOS non c'è traccia di alcuna di alcuna SOS credo di aver approfittato abbastanza della vostra pazienza e della vostra attenzione e mi rimetterei alle vostre domande no guardi procuratore lei non ha approfittato della nostra pazienza anzi io colgo l'occasione per ringraziarla per la dettagliata relazione che ha fornito a questa commissione che seppur per usare un termine utilizzato da lei fotografa una situazione disastrosa in fasi precedenti a quelle attuali certamente ci ha aiutato a entrare nel tema e a capire come possiamo essere utili in questa collaborazione proficua che c'è tra la DNA e la commissione parlamentare antimafia per limitare gestioni che sono evidentemente illecite allora io ho diversi iscritti a parlare sì prego senatore Verini semplicemente sull'ordine avevo capito dal procuratore nazionale che si riservava una parte secretata se non l'ho capito male se quindi non fosse il caso di completare con questa cosa ma è una domanda io ho capito io ho capito che la parte secretata è se dalle domande emerge eventuale perfetto emerge qualcosa che non si può dire in libera era eventuale ma i riferimenti come dire li ho fatti sono entrambe le vicende delle quali ho cognizione dire diretta e delle quali ho riferito come dire con relazione apposite come dire alle procure che procedono ai relativi alle relative indagini ok ho già diversi iscritti a parlare se devo iscrivere qualcun altro vi segnalate in modo che ok prego allora iniziamo in ordine a come mi sono arrivate quindi senatore Iannone si presidente grazie innanzitutto al signor procuratore per la relazione chiarissima e completissima tanto completa per me dal fatto di aver già esaudito la prima parte dell'unica domanda che vorrei porre alla sua cortesia cioè lei ha detto che il luogotenente Striano non svolgeva questa attività in maniera autonoma quindi vorrei chiederle se lei pensa o accontezza che questa attività del luogotenente Striano sia indisponibilità di qualcuno in particolare della catena gerarchica della guardia di finanza o di altri sono questo senatore la interrompo subito quello che ho detto è diremente ma significativamente diverso ho detto che per stensione e sistematicità le attività di raccolta dati che è emessa nell'indagine di Perugia e che è ipoteticamente attribuita quindi è il maggio principio della presunzione di innocenza non è rituale al sottotenente Striano a caratteristiche che sembrano difficilmente secondo la mia esperienza riconducibili a mere iniziative individuali a mere iniziative individuali ma ho anche precisato che il compito di eventualmente definire un perimetro di responsabilità più ampio compete soltanto alle indagini del procuratore della Repubblica di Perugia al quale posso aggiungere ovviamente fornirò ogni possibile sostegno ogni possibile contributo di conoscenza ogni possibile supporto che sarà eventualmente necessario preciso a tale riguardo che già si sono svolte riunioni di coordinamento che hanno riguardato l'indagine della procura di Perugia e indagini di altri uffici relative ad altri casi di indebita come dire di sfiltrazione di dati contenuti nelle sosse perché senatore io credo che la lezione profonda delle indagini di mafia e delle indagini di terrorismo sia proprio quella di cercare di andare al di là della singola specifica notizia di reato e a mettere in relazione i pezzi di puzzle che a volte sono molto complessi sono molto complessi e che hanno anche legami difficili da definire non è detto che sia l'indagine penale il processo penale lo strumento migliore per farlo perché ovviamente la soglia per così dire di congruità degli elementi di giudizio nel procedimento penale è ancorata al concetto di prova di prova indiziaria nella fase delle indagini e di prova formata soltanto nel contraddittorio e al di là di ogni ragionevole dubbio nella fase del giudizio quindi non è detto che sia un compito assorbibile è un'obbligazione di mezzi non di risultato però io credo che semplicemente mettendo insieme le notizie pubblicate anche negli ultimi anni su vari incidenti per così dire alcune di queste sono state richiamate anche nella stampa di questi giorni e anche che ossennano di poi mi sembrano non meno gravi di queste però fosse arrivato il momento di provare a mettere in campo la cultura del coordinamento investigativo anche su questo terreno so per certo di poter confidare sulla collaborazione della Guardia di Finanza e degli altri servizi di Polizia Giudiziaria che come la direzione nazionale antimafia sono sovente vittime di attacchi al loro patrimonio informativo i tribunali sono discretamente affollati di procedimenti per accessi abusivi allo SDI a SIVA a SERP con le varie banche dati e delle varie forze di Polizia giudiziaria ecco io credo che sia una constatazione obiettiva quindi prendere atto che esista una sorta di mercato delle informazioni riservate quindi si tratta di capire se è un mercato regolato dalla casualità da un numero infinito di attori tra loro non collegati frutto magari soltanto della debolezza dei sistemi digitali che contengono queste informazioni rispetto in termini di regole di accesso di utilizzazione o se invece esistono logiche più sofisticate più ampie io credo che l'indagine di Perugia ma non è l'unica indagine l'indagine di Perugia consenta di mettere qualche mattoncino per immaginare una costruzione più ampia però si tratta di una mia personale impressione impressione da quale prego di assegnare soltanto il valore che è proprio di una valutazione fatta da un magistrato che ha 40 anni di esperienza quindi ecco tutto grazie e allora ho iscritto il senatore canta la messa sì grazie presidente grazie signor procuratore condivido due premesse che le ha fatto la prima sullo spirito di collaborazione istituzionale che ci devono essere chiaramente che ci deve essere considerata sempre a prescindere ma ancora di più considerando il momento e poi mi ha mi ha impressionato perché so lei quando ha detto la gravità estrema perché ha usato questo discorso e quindi questa è una cosa che mi ha non mi ha lasciato del tutto indifferente e allora io ho segnato tutte le date che le ha detto cioè il 22 giugno che ha preso in mano l'AIT l'8 luglio che ha richiesto le ispezioni il 22 luglio il nuovo regolamento novembre voglio dire si è preso la gestione delle SOS volevo farle quindi un paio di domande da premettere ne avevo segnate 21 prima della sua relazione sono sceso a 3 quindi 18 me le ha questa è è consolante per me allora io ho letto l'ho detto qui è già stato ripreso dall'agenzia lei ha parlato di accessi abusivi nelle ultime settimane anche si riferiva alla DNA si riferiva all'esterno se si quanti o da dove perché è stata ripresa anche dell'agenzia questa cosa io senatore Cantaramessa scusi forse noi si si ci mancherà leggo i giornali come voi ah ok sui giornali emerge una notizia in una SOS io escludo che sia tendenzialmente arrivata per canali illeciti per canali illeciti è sufficiente leggere le rassegne stampa nelle ultime settimane per trovare anche dei casi particolarmente particolarmente come dire rilevanti dal punto di vista mediatico uno di questi casi è stato recentemente denunciato dal direttore dell'UIF al procuratore della Repubblica di Roma che me ne ha dato notizia nel quadro dei rapporti di totale e collaborazione che caratterizzano i nostri i nostri rapporti aggiungo soltanto una cosa che i casi ai quali mi riferiscono si vedono SOS delle quali il mio ufficio non ha nessuna conoscenza grazie altra domanda lei oggi ha parlato di che le SOS vengono classificate in base al tipo di associazione criminale e quant'altro che lei sappia in precedenza c'era sempre questa classificazione cioè perché nelle SOS ci potrebbe essere anche un PEP che fa un bonifico mi corregga se sbaglio cioè voglio dire non per forza deve riguardare per quanto ne sappia che sicuramente è meno di quello che ne sa lei però dico ci sono delle SOS che possono cioè questa classificazione esisteva prima o è frutto di quello del lavoro che è stato fatto successivamente io ho sempre parlato scusa procuratore facciamogliele fare tutte sennò vi diventa un dibattito e poi non la riesco più a gestire grazie sempre su il merito alle SOS io avevo capito avevo compreso che su circa 100.000 e oltre SOS all'anno tutte rimanessero in pancia alla DNA se ho capito bene invece ne restano in pancia il 17 il 18% al massimo il 16% ok che sono quelle praticamente che si riferiscono alla criminalità organizzata ok questo era un altro discorso che volevo chiarire e in ultimo il tenente striano si sa da chi è stato delegato alla alla DNA grazie la prima questione più rilevante certo che esistevano anche prima delle regole quindi prima delle regole ho provato a indicare i versanti che secondo me consentivano un significativo innalzamento rafforzamento dei presidi della correttezza della trasparenza delle azioni uno rappresentato dall'introduzione di meccanismi che appunto al di là dell'enunciazione delle regole poi introducono come dire meccanismi di verifica della corrispondenza delle prassi a cui medesimi criteri il secondo era costituito ed era forse il più importante dall'individuazione di criteri obiettivi e direi eteronomi di selezione delle SOS da approfondire a fini di impulso investigativo da fini di impulso investigativo perché anche se stiamo parlando di una percentuale ridotta stiamo parlando di migliaia di SOS e quindi un sia pur valente ma ristretto manipolo di analisti non può pensare di analizzarle tutte contemporaneamente si è capito che non disponiamo di sistemi di intelligenza artificiale ritengo anche se la nuova banca dati sarà costruita intorno a quelle logiche intorno a quelle logiche quindi si trattava di introdurre dei criteri obiettivi dei criteri obiettivi di diretta attinenza e rilevanza per le funzioni investigative delle procure distrettuali e quindi per le funzioni di impulso richiesta delle procure distrettuali richieste delle sezioni richieste dei gruppi di lavoro richieste dei singoli magistrati o segnalazioni come dire del referente del gruppo del referente del gruppo che derivano dalla constatazione che si tratta di cose particolarmente delicate per esempio è sempre stata anche negli anni precedenti assicurata una corsia preferenziale quindi se prima ho detto che c'è un punto anche un rallentamento su questo all'analisi delle SOS rilevanti in materia di terrorismo perché insomma non devo mica spiegare le ragioni le ragioni dell'urgenza per così dire della verifica di segnalazioni che di regola sono provengono da fiu estere e che quindi consentono di attingere livelli informativi non conoscibili non avvicinabili neanche nei canali della cooperazione di polizia della cooperazione giudiziaria in mancanza di un procedimento già avviato e già sviluppato quindi questo è per quanto riguarda la sua prima domanda per quanto riguarda la seconda domanda vorrei sottrarmi a rischio di diventare biografo del sottotenente estreano credo ho sottolineato per me anche nella logica che prima il senatore Iannone indicava che non è un'interferenza nelle valutazioni del procuratore di Perugia perché so che condivide esattamente il mio punto di vista credo che definire il profilo il sistema di relazioni della persona sottoposta a indagini sia di regola un buon criterio per comprendere il movente significato delle sue azioni sempre messo che le abbia commesse quindi ecco perdonate grazie mille si è perso una domanda per questa volta grazie sì infatti allora da un articolo su Repubblica avevo letto che c'era c'è la DNA si è occupata di una di un discorso in merito ai fondi della Lega e non sarebbe stata trasmessa alla procura competente non so se è lo stesso articolo di stampa che ho letto io su Repubblica oggi quello che posso dire è che la domanda va rivolta al procuratore della Repubblica di Perugia al quale sono stati trasmessi tutti i documenti che gli ha ritenuto utili a fine investigativa grazie prego il senatore Scarpinato poi il vicepresidente Dattis Procuratore lei ha chiarito che alla procura nazionale antimafia vengono inviate le segnalazioni di operazioni sospette criptate e che vengono decriptate soltanto a seguito di mixing positivo con la banca dati e cioè quando risulta che un nome incrocia i dati inseriti nella banca data viene decriptata e tuttavia dalle notizie di stampa risulta che la maggior parte degli accessi abusivi riguarda soggetti che sembrano nulla avere a che fare con indagini di mafia e di terrorismo e quindi mi chiedo tenuto conto che la procura nazionale di mafia conosce soltanto i nominativi dei soggetti indagati per mafia e per terrorismo come sono avvenuti questi accessi abusivi e a questo riguardo poiché leggo sui giornali che il sottotenente di cui abbiamo parlato aveva accesso alla banca dati SIVA sul portale analista della guardia di finanza mi pongo una domanda la banca dati SIVA è una banca dati che consente una volta che viene consultata facendo un nome di sapere se per quel nome c'è una segnalazione di operazione sospetta di qualunque tipo che a me risulti il procuratore nazionale antimafia non ha accesso alla banca dati SIVA quindi mi chiedo ma il sottotenente Estriano quanto interrogava la banca dati SIVA operava quale funzionario della procura nazionale antimafia oppure operava per conto proprio cioè il buco è all'interno dell'istituzione della procura nazionale antimafia oppure tenuto conto che il sottotenente Estriano utilizzava poteri che non erano della procura nazionale antimafia ha fatto questi accessi per conto suo che non sono imputabili quindi alla procura nazionale antimafia e com'è che il sottotenente Estriano pur essendo distaccato alla procura nazionale antimafia conservava la chiave di accesso alla banca dati SIVA dopo che era stato distaccato questa chiave di accesso non gli doveva essere revocata domanda secondo tema tutti gli accessi alle banche dati sono tracciati e tuttavia a me sembra e questo non è un problema che riguardi soltanto la procura nazionale antimafia ma tutti gli uffici nel quale operano il personale di polizia che ha accesso alla banca dati che abbiamo un problema che non basta la tracciabilità del dato per evitare degli abusi occorre che qualcuno dopo si legga il tracciato nel caso di specie siamo stati in grado di individuare il sottotenente Estriano come lui che aveva fatto gli accessi abusivi grazie al tracciamento il problema è che l'abbiamo scoperto dopo anni se il controllo fosse stato fatto giorno per giorno dopo il primo giorno ci si sarebbe accorti che il sottotenente Estriano stava facendo accessi su nominativi che non erano di competenza della procura nazionale di mafia allora mi chiedo non sarebbe il caso di una iniziativa legislativa che renda obbligatorio in campo nazionale per tutti gli uffici nei quali operano soggetti che hanno accesso alle banche dati di rendere obbligatorio il controllo a fine giornata di tutti gli accessi che sono stati fatti utilizzando eventualmente anche l'intelligenza artificiale cioè io lavoro durante il giorno faccio degli accessi e a fine giornata o a fine settimana si fa un controllo posteriore degli stessi accessi per verificare se erano conformi ai miei dovrei di servizio se per caso ho fatto delle cose che andavano al di là dei miei compiti e in questo caso si ritiene che una proposta di legge di questo genere sia un'iniziativa utile e urgente questa è la domanda ok bene allora la prima su Siva da alcuni mesi il maggiore ma morale mi potrà suggerire come dire inadvertitamente quando gli analisti del gruppo SOS hanno grazie alla nuova collaborazione della Guardia di Finanza l'accesso diretto a Siva gli analisti del nuovo gruppo SOS in precedenza il gruppo SOS aveva una possibilità di accesso in quanto ufficiali Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza secondo regole tecniche e criteri che imponevano come dire l'utilizzo di macchine collocate negli uffici della Guardia di Finanza negli uffici della Guardia di Finanza ecco per essere più chiaro posso per esempio trasferire le informazioni il dottor Laudati mi diede quando mi consegnò la nota della procura di Roma che rivelava di fatto chiedendoci informazioni che c'è un'indagine per l'accesso abusivo nei confronti del sottottenente Striano e gli mi disse noi non c'entriamo niente l'accesso è stato fatto con macchine della Guardia cioè con sistemi della Guardia di Finanza la Guardia di Finanza aggiunse che il sottottenente Striano lavorava ma non c'è un documento che ne riechi traccia alcuni giorni alcuni giorni nella polizia valutaria altri giorni altri giorni invece in DNA poiché mi sembrava una circostanza meritevole di verifica e quindi ne riechi chiesi conto al comandante del nucleo speciale di polizia valutaria il generale Vito Giordano quale gli chiesi ma com'è questa storia che lavora part time qua e part time e part time da voi lui mi disse sì certo viene da noi per poter accedere alle nostre banche dati ma nessuno si sogna di dargli un qualsivoglia in carico questa fu testualmente la risposta del generale Giordano che io non mancai di riportare al dottor Laudati perché era palesemente contrastante con con la sua indicazione secondo la quale appunto verosimilmente il sottottenente esterano avrebbe potuto ricevere indicazioni come dire dalla sua linea gerarchica dalla sua linea gerarchica questo per quanto riguarda come dire gli accessi a Siva gli accessi a Siva poi lei pone il problema che io ho cercato di porre come dire in apertura della mia relazione vale a dire quello dell'assoluta necessità di un rapido radicale innalzamento dei sistemi di prevenzione e resilienza dagli attacchi informatici perché vorrei che fosse chiarito anzi che fosse chiaro che un accesso abusivo è un attacco informatico è un internal threat è una minaccia interna ma non è diversa tecnicamente da un attacco cioè tecnicamente sì ovviamente gli esperti ma quindi da punto di vista concettuale e anche da punto di vista normativo perché il modello di incriminazione relativo è lo stesso il 615 ter e nel caso in cui le informazioni siano inserite in sistemi informativi di interesse pubblico il comma il comma 3 che è quello che rientra nella sfera di coordinamento del procuratore nazionale antimafre antiterrorismo ampliata con il recente decreto legge quindi sono assolutamente convinto che sia necessaria anche un'iniziativa legislativa per costringere tutte le pubbliche amministrazioni quindi questa iniziativa legislativa credo che per certi versi sia già in campo perché il disegno di legge a quale facevo prima riferimento che è depositato alla Camera e del quale sommessamente mi permetterei di raccomandare il più rapido e urgente esame il più urgente esame reca su proposta dell'agenzia per la sicurezza nazionale la sicurezza cibernetica nazionale anzi sì l'agenzia cyber sicurezza nazionale l'acronimo EACN ANCN proposte proposte che non come dire delle quali vi è assoluta necessità per imporre letteralmente la pubblica amministrazione la pubblica amministrazione anche nell'acquisizione di beni e servizi destinati alla gestione dei patrimoni digitali come dire alcuni standard necessari alcuni standard necessari si tratta di un tema di un tema delicato innanzitutto dal punto di vista l'impatto finanziario perché come dire non so che ragione generale lo Stato sono bravissimi a esaminare anche questi profili che a me sembrano assolutamente ipotetici però la loro scienza del bilancio è in grado di stimare anche questi profili non si va però da nessuna parte soltanto con come dire con le misure legislative perché le misure legislative possono anche introdurre il principio così come per adottare una misura catturale ci vogliono non tre ma cinque giudici o sette giudici ma poi non si trovano i giudici per fare queste procedure si può anche dire che tutti si devono dotare di sistemi di intelligenza artificiale ma credo che ciascuno di noi ha l'occasione di prendere atto dello Stato di arretratezza profonda di arretratezza profonda nel quale l'amministrazione della giustizia come dire spicca significativamente spicca significativamente ecco da questo punto di vista da questo punto di vista però le esigenze che lei ha posto senatore Scarpinato mi trovano assolutamente assolutamente concorde e se posso sommessamente come dire formulare un altro auspicio è quello che la materia della sicurezza cibernetica nazionale come è avvenuto in occasione della conversione del decreto legge che conteneva disposizioni sia materia sia materia bipartisan perché attiene alla sicurezza del paese recentemente recentemente ho presentato una citazione ho presentato il libro di un prefetto scompasso di un grande prefetto Carlo Mosca che è stato un esperto anche dei sistemi di intelligenza dei sistemi di intelligenza e lui ricordava in una nota del suo libro che si chiama intelligence e democrazia che la legge 124 del 2007 che regola le funzioni del sistema informativo per la sicurezza della repubblica è stata l'unica legge approvata in modo bipartisan riconducibile al filone riforme istituzionali ecco io credo che quello spirito vada messo in campo quando si tratta di parlare della sicurezza della sicurezza cibernetica perché è in gioco la vita delle persone è in gioco la vita delle persone non semplicemente per non semplicemente del del dal punto di vista del quale oggi ci occupiamo quindi sono sotto attacchi tutti i sistemi più delicati della vita pubblica e privata del paese l'Italia è al terzo posto nell'Unione Europea per il numero di attacchi per il ransomware al sistema finanziario al sesto nel mondo ci sono attacchi che sono portati a tutte le infrastrutture che sono pure inserite nel perimetro della sicurezza cibernetica vi è un eccezionale lavoro da fare che però esige visione con consapevolezza prima visione e anche uno straordinario spirito uno straordinario spirito di coesione se posso dirlo perché si tratta di temi che non consentono né divisioni né più o meno misere speculazioni speculazioni questa è la mia opinione prego vicepresidente Dattis grazie procuratore allora quando ci ha raccontato insomma con delle date precise che quando è arrivato cosa ha trovato cosa ha fatto in termini anche organizzativi rispetto poi alle SOS che lei definisce strumenti delicatissimi ci ha riferito anche di esiti sconfortanti dell'ispensione del Cini la domanda che le faccio proprio in funzione anche di quello che stiamo dicendo rispetto alle norme e alle innovazioni normative che vi chiederemmo quello che ha trovato e quello che ha dovuto fare lo ha fatto perché diciamo si è potuto fare in termini organizzativi o perché nel frattempo sono intervenute delle norme che hanno l'hanno agevolata in questo cambio diciamo di di gestione questo per capire bene cos'è accaduto prima visto che l'audizione di oggi sicuramente importante diciamo che si integra anche alla prima audizione che lei ha tenuto qui proprio sul quadro normativo sui suggerimenti sull'approccio iniziale riguarda prevalentemente ovviamente il caso che stiamo trattando che è quello che emerge poi dai dati delle iniziative giudiziarie che continuerà domani seconda seconda domanda lei racconta della trasmissione da parte del PM di Roma che dopo aver individuato l'impronte digitale di Striano chiede informazioni al suo ufficio rivolgendosi direttamente a laudati e non direttamente a lei la domanda è la seguente ritiene che questo passaggio come dice lei anche un po' improprio abbia potuto incidere sulla vicenda per esempio in termini di dati che nel frattempo sono andati persi e infine rispetto anche alla domanda avevo in seno anche questa domanda ma il senatore Scarpinato ne ha fatta una diciamo che riguarda il tema mi risulta la sottoscrizione di un protocollo tra la direzione nazionale antimafia la guardia di finanza e dell'ottobre del 2017 questo protocollo riguarda le attività diciamo da da fare congiuntamente ora al netto delle normative che devono essere sicuramente potenziate a cominciare dal disegno che è all'esame del Parlamento l'articolo 2 di questo protocollo dice che il nucleo speciale di polizia valutaria e la DIA provvedono in forma congiunta e per via telematica ad inoltrare immediatamente alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo le informazioni pervenute da lui fa i sensi dell'articolo 1 ora la domanda è al netto delle norme che bisognerà introdurre potenziare eccetera eccetera le chiedo nel suo ufficio che non era il suo ancora questo protocollo di intesa alla luce di quello che stiamo leggendo non abbiamo ancora visto ovviamente di fatto è stato violato non è stato rispettato così appare almeno nella forma di come si presenta lo stesso protocollo grazie vicepresidente dati perché intanto la sua domanda la terza in particolare però anche l'avvio della prima mi ha forse segno di stanchezza ma forse devo ancora un completamento della mia risposta senatore scarpinato vale a dire rispetto all'utilizzo di informazioni non contenute nelle sosse ho detto ho detto preliminarmente che credo che sia molto importante per avere esattamente esattamente la misura di quello che è avvenuto verificare e credo che lo si possa fare soltanto con il procuratore della Repubblica di Perugia perché si tratta di scendere nei dettagli di un'indagine che per molti versi è ancora oggetto di segreto investigativo quanti gli accessi abusivi eseguiti in danno per così dire della DNA riguardino SOS credo pochissimi quanti invece accessi abusivi al sistema SOS siano stati fatti per altre vie e quanti accessi abusivi invece riguardino anche dati diverse da quelli che contengono le SOS secondo me nel riquadro che ne riuscirà tracciato conferma anche il fondamento della sua preoccupazione il senatore Scalpinato vale a dire che trattandosi di accessi abusivi a una pluralità di database a una pluralità di patrimoni digitali resta confermata la straordinaria dimensione complessità di sistema e la necessità di risposte di risposte di sistema al tema cruciale della debolezza della debolezza del nostro perimetro di sicurezza di sicurezza cibernetica ora stiamo parlando stiamo parlando dei nostri dati ma non parlo come dire soltanto come dire per ipotesi astratte pensate un attacco ai sistemi di ferrovia dello Stato di Trenitalia che sia finalizzato non semplicemente come pure credo sia accaduto a bloccare i treni ma semplicemente a cambiare come dire a modificare gli algoritmi che regolano il funzionamento del binario in modo da evitare che due treni si scontrino o al prelevamento che è pure avvenuto numerose volte di dati personali delicatissimi dalle banche dati delle singole ASL che sono a ridotta dimensione territoriale quando ero procuratore di Napoli se ne verificò uno o sei grave sapete quale fu la risposta dello Stato quindi la risposta dello Stato fu questa che intervenne la società di assistenza dell'ASL la società di assistenza dell'ASL che svolse tutti i controlli del caso e che poi furono consegnati alla polizia postale delle comunicazioni prassi considerata devo dire anche un pochino nella dirigente dell'epoca della polizia delle comunicazioni di Napoli inevitabile io provai a spiegare che accettare con l'assegnazione questo sistema significava più o meno stessa cosa che accettare l'idea che se avviene un omicidio in un centro commerciale considereremmo normale che la società che gestisce il centro commerciale chiami la vigilanza per fare i rilievi di polizia scientifica e poi trasmetta al commissariato di polizia il fascicolo con tutti i dati e ciò senza considerare che un qualsiasi intervento sui sistemi altera la scena del delitto di per sé perché ovviamente modifica l'ambiente nel quale si svolge voglio dire che da questo punto di vista c'è una strada lunghissima e anche molto in salita da fare è una strada che il nostro paese ha avviato dal punto di vista sistemico soltanto nel 2019 quando ha introdotto con legge di cui non mi ricordo il numero di concetto di perimetro della sicurezza cibernetica nazionale e poi con la legge del 2021 che ha istituito l'autorità nazionale per la sicurezza cibernetica quindi è ma che ha proseguita con il decreto che attribuisce al procuratore nazionale il compito di coordinare le indagini in questo campo che non è un compito secondario perché non era possibile perché credo che sia stato questo la constatazione condivisa da tutti immaginare che l'intero impianto normativo della sicurezza cibernetica nazionale fatta da due leggi con decine di articoli e centinaia di commi non recasse una sola volta la parola autorità giudiziari i delitti cibernetici non sono soltanto dei reati perché appunto mettono in gioco la sicurezza e quindi le competenze del comparto di intelligence mettono in gioco come dire le sorti delle persone quindi la responsabilità della pubblica amministrazione mettono in gioco come dire persino se parliamo del sistema finanziario la stessa stabilità la stessa stabilità finanziaria ma gli attacchi cibernetici se è vero che non sono soltanto reati sono anche dei reati e di questo era necessario che come dire occuparsene ed elevare le difese da questo punto di vista da questo punto di vista come dire vi è già un disegno di legge che io davvero rinnovo come dire mi auspicio che possa essere rapidamente esaminato rapidamente esaminato perché oggi sono in costo delle indagini su attacchi informatici assai gravi un attacco informatico non è un reato che si perfeziona in un momento e che quindi da quel momento partono le indagini intanto l'individuazione dell'attaccante è estremamente complicata perché proprio il tema dell'attribuzione dell'attacco è estremamente complesso ma gli attacchi a volte durano molto tempo a volte quindi un attacco serve semplicemente a esplorare la possibilità di ulteriori attacchi ad altri obiettivi è ben possibile che in uno di questi casi sia identificato l'attaccante attualmente come dire dopo sei mesi di indagine che sono un periodo anche molto inferiore a quello di durata media di un attacco APT un attacco che incide sulla determina criticità nei sistemi bisognerebbe dargli avviso che sono in corso indagini nei suoi confronti certo avremmo i vantaggi di potergli dare un avviso con modalità telematica tra poco però credo che non sarebbe sufficiente da questo punto di vista l'estensione di alcune regole processuali in materia di criminalità organizzata è indispensabile anche perché alcune di queste reti sono direttamente collegate alle organizzazioni che siamo abituati a considerare prettamente criminali ma soprattutto va abbandonata l'idea che un attacco interno sia una cosa che si può spiegare con come dire con l'abbennaggine l'approssimazione la 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 come dire l'incuria come dire la superficialità e che anche quando dettato da ragioni come dire personali o di vantaggio personale sia tutto sommato una cosa non così straordinariamente grave come dire fammi questo controllo vediamo se questa società è solvibile come dire in realtà sono attacchi di che vanno considerati per quello che sono cioè fatti gravissimi perché inclinano la fiducia dei cittadini nella sicurezza dei dati personali che lo Stato deve disporre per ragioni di per le ragioni dell'esercizio di sue funzioni innanzitutto a fini di sicurezza e di giustizia sicurezza e giustizia ma che vanno presidiati e da questo punto di vista come dire quel disegno di legge va nella direzione va nella direzione nella direzione giusta e e credo che sia di per sé una una risposta di alto profilo alla miserevole e nello stesso tempo come dire terribile vicenda come dire nella quale si occupano i colleghi di Perugia grazie mille senatrice Paida poi onorevole Pittalis senatore Verini arrivo grazie procuratore perché io la voglio ringraziare innanzitutto per la come dire trasparenza franchezza che ha utilizzato negli argomenti e nell'audizione di oggi ci consente anche di fare un lavoro nella fase successiva non ci dubbio ma anche per l'organicità dell'analisi che lei ha fatto allora lei ha da un lato messo in rilievo la come dire inadeguatezza del sistema per sistema intendiamo ovviamente l'impianto infrastrutturale per sistema intendiamo come dire l'incapacità complessiva di avere di avere gli ingredienti e gli anticorpi giusti per affrontare il tema degli attacchi sulla cyber ci ha anche offerto delle indicazioni preziose io sono stata presidente della commissione che si è occupata dell'istituzione dell'agenzia sulla cyber e all'epoca in cui diciamo abbiamo discusso e fatto comunque una cosa bipartisan alcune delle questioni che lei oggi ha posto non sono state evidentemente oggetto di disamina e quindi come dire indicazioni anche operative per un lavoro diciamo per il futuro di rafforzamento dell'impianto dell'agenzia nella specifica funzione relativa alla giustizia e ai dati pertinenti alla giustizia benissimo però poi lei non ha risparmiato neppure diciamo un'attenta riflessione al tema organizzativo del come venivano diciamo gestite le operazioni di SOS e qui c'è un discrimine temporale che non sarà sfuggita nessuno prima che lei arrivasse e dopo che lei è arrivato perché sarebbe del tutto come dire sbagliato da parte nostra attribuire la debolezza del sistema al solo impianto infrastrutturale c'è anche una qualitativa funzione organizzativa che lei ha rimesso completamente in campo perché prima di lei dalle sue parole gravità debolezza tenuta del sistema potrei andare molto avanti era un colabrodo l'organizzazione e nel colabrodo e nella debolezza infrastrutturale si sono diciamo così innestati dei meccanismi di violazione anche da parte di pubblici ufficiali infedeli che hanno prodotto un quadro allarmante di tenuta democratica perché se qualcuno di noi come dire pensa la quantità di questioni che sono state pubblicate ahimè come dire io devo dire la verità non uso mai termini eccessivi ma francamente non mi sento affatto al sicuro se poi come dire a questo elemento di riflessione io aggiungo anche un altro tema e cioè che ci sono alcuni giornali che hanno avuto costantemente queste informazioni che lei è arrivato e una delle prime cose che ha fatto è sostituire Striano è chiaro che qui siamo in presenza di un quadro perché anche questo è come dire lei se l'è fatta un'opinione del perché solo alcuni giornali sono alcuni giornalisti hanno avuto accesso a questo tipo diciamo di informazioni e quanto può essere stesa la rete delle persone che agivano e che andavano a raccogliere informazioni che poi venivano trasferite a organi qui voglio dire una cosa magari non fregherà nessuno insomma io sono modestamente diciamo una persona che rispetta sempre diciamo il lavoro dei giornalisti come rispetta sempre il lavoro dei magistrati se c'è un magistrato che svolge una funzione in termini sbagliati lo diciamo così come se un giornalista acquisisce informazioni in modo anomalo sbagliato e antidemocratico va detto e questo non significa attaccare la funzione della libera stampa significa immaginare che non ci sia un diritto tirannico sull'altro magari perché come dire il diritto a informare comunque non può ledere il diritto diciamo così alla propria privacy in situazioni ripeto come queste anomale allora io come dire dal suo quadro vorrei uscire diciamo con degli elementi in qualche modo che ci aiutano a lavorare ma anche a non ridimensionare quanto è accaduto e che so perfettamente essere oggetto di indagini quindi diciamo avremo poi anche ulteriormente diciamo nella fase appunto con il procuratore Cantone il modo diciamo di andare oltre però io capisco questo uno che lei è arrivato e ha fatto un lavoro prezioso e che prima di lei il sistema organizzativo e il sistema diciamo così infrastrutturale erano sostanzialmente un collaborato e lo ripeto seconda questione che lei si è accorto evidentemente andando a fare delle sostituzioni che c'era qualcosa che non andava terzo elemento che siamo nel bel mezzo di una vicenda nella quale c'è un sistema che non funziona c'è un sistema organizzativo che va rivisto e c'è anche un passaggio sistematico di informazioni alcuni organi di stampa alcuni giornalisti che come dire ci deve interrogare questo diciamo mi è sembrato di capire diciamo dalla sua pacata ma anche estremamente trasparente e utile per noi informativa di oggi mi pare come dire che però le parole con le quali lei ha iniziato cioè gravità estrema vengano in qualche modo tutte riconfermate dall'audizione non mi è ben chiaro quale sia il tema al quale devo dare delle risposte però lei fa bene essere preoccupata fa bene essere preoccupata perché la dimensione criminale è legata agli attacchi cibernetici interni e esterni è la dimensione criminale come dire non del futuro è la dimensione criminale da tempo più pericolosa oggi intere reti terroristiche hanno una vita quasi esclusivamente come dire nel cyberspace come dire anche se ovviamente poi destinata come dire in alcuni casi a trasferirsi nel mondo nel mondo reale quindi da questo punto di vista da questo punto di vista non c'è nessuno che le può dare rassicurazioni però vorrei in qualche misura poter sperare di contribuire a modificare alcune sue valutazioni alcune sue valutazioni nel senso che è ingiusta la definizione del mio ufficio come un ufficio con la brodo perché i sistemi infrastrutturali sono assicurati dal ministero della giustizia e diciamo è attività di straordinaria amministrazione che come dire che invece le risorse quindi è un evento dire eccezionale che io si è chiamato a richiedere per dichiarata l'indisponibilità di risorse finanziarie l'ausilio del ministero dell'interno ovvero come dire la partecipazione di altre istituzioni all'attività di progettazione l'attività di progettazione quindi è una condizione generale del sistema dell'amministrazione della giustizia della quale forse bisognerebbe occuparsi perché io sono sempre stato convinto lo dicevo proprio con riferimento a quel 110 quel 110 non è semplicemente un memo per il ministro è un memo per chiunque perché la discussione intorno ai temi della giustizia potrebbe finalmente spostarsi dalle mille riforme che modificano le precedenti a quello dell'effettività dei processi organizzativi che presidiano il funzionamento il funzionamento se ci fossimo occupati tutti di sicurezza dell'amministrazione della giustizia in tempo avremmo aiutato tutti anche me quindi anche me a non fare tanta fatica per assicurare delle condizioni accettabili di sicurezza nella gestione dei patrimoni informativi direi anche che poi direi che la mia relazione considerasse che come del resto anche le notizie di stampa e quello che vi potrà dire il procuratore di Perugia domani credo confermino che molti di quei dati non erano attinti cioè sfiltrati dalla nostra banca dati ma da altre banche dati e che senza minimizzare la gravità dell'uso delle SOS a fini criminali e non mi interessa neanche decidere se i dossier tra virgolette abusivi sono due tre come ho letto sul giornale si contano con una mano per me anche uno solo dossier abusivo riconducibile alla mano di funzionari dello Stato è un fatto intollerabile però però mi interrogo sullo slittamento completo sul rovesciamento completo della discussione sul tema delle SOS quando invece sono in discussione anche le sicurezze di impianti digitali non meno importanti che sono stati quelli utilizzati per molti dei cosiddetti dossieraggi quindi davvero io la ringrazio la trice parita per le sue considerazioni e anche per l'impegno a porre questi temi al centro dell'agenda politica e parlamentare però vorrei dire anche una cosa io non ho parlato di queste cose per la prima volta oggi ne ho parlato in un'edizione a copa si 3 maggio dello scorso anno ho fornito al ministero della giustizia l'elenco dettagliato e motivato di tutti i provvedimenti e le misure adottate dal mio ufficio perché si potesse rispondere esaurientemente a una interrogazione o interpellanza non mi ricordo bene del senatore Enrico Borghi proprio perché credo che vi sia un dovere di rendicontazione sociale e istituzionale di questa materia capirà bene che dinanzi a tutto questo un rovesciamento del piano di discussione intorno possiamo fare almeno della procura nazionale oppure possiamo fare almeno delle SOS obiettivamente a me sembra rivelare la stessa insofferenza che gli apparati e quei sistemi di impresa che operano in questo campo hanno per le logiche dei controlli e da questo punto di vista credo che ci sia materia notevole di vigilanza democratica nel quale il Parlamento può davvero svolgere un ruolo fondamentale grazie mille prego onorevole pittalis tanto la ringrazio signor procuratore perché penso che lei abbia dato elementi utili alla commissione e soprattutto insomma ci ha assicurato che sostanzialmente quello che è avvenuto nel passato oggi non potrebbe più verificarsi mi scusi se mi interrompo non ho detto questo ho detto che se si verificasse confido che come dire che risulterebbe i controlli che è cosa diversa perché credo che non esista sistema digitale compresi quelli del insomma Wikileaks o tante altre vicende dimostrano che non esista sistema neanche quelli di intelligenza di paesi più avanzato come dire livello tecnologico che sia protetto da rischio di sfiltrazione dei dati il problema non è avere la certezza che nessuno può darci che queste cose non si verifichino il problema è di spover di strumenti adeguati in termini di prevenzione e di successiva repressione ed è tutto evidente per dire una banalità che se il delitto di accesso abusivo è punito con la reclusione da 1 a 5 anni è nel caso aggravato dal fatto che sia di interesse militare per esempio si passa la reclusione a 3-8 anni ma è lidibile con la concessione degli attivanti generiche io non credo che si svolga una funzione per così dire di prevenzione generale di deterrenza efficace efficace eppure credo che di non essere per storia personale convinzioni personali tra i fautori dell'innalzamento delle pene però francamente però francamente questa è una materia questa è una materia nella quale ci vuole mi scusi lo interrottano no ma anzi il senso il senso è che che andava la mia domanda nella direzione che lei ha meglio precisato però io voglio chiederle se appunto al netto di quella vulnerabilità dei sistemi che lei ha di cui ha riferito prima del suo ingresso cioè che poi è stato l'esito anche di quella verifica di quella ispezione sollecitata presso il ministero della giustizia se dunque l'attività che lei ha posto in essere ecco per essere ancora più chiari poteva essere posta in essere da chi l'ha preceduta evitando così quello che riassumiamo per economia anche di tempo attività di dossieraggio e se in questa vicenda lei si è fatto idea anche dei cosiddetti mandanti e in relazione al quanto da ultimo lei ha detto in relazione alla precisazione sulla mia domanda o sulla mia considerazione ecco io aggiungo che auspichiamo che non debbano passare quattro anni come nel caso del primo invio a Tizian giornalista di domani perché questo noi ce l'auguriamo ecco poi l'altra mia curiosità a proposito dei casi di dossieraggio che hanno riguardato sia Gravina che il Ministro Crossetto se non le pare che qui ci possa essere chiamata anche una sorta di quantomeno responsabilità di settori anche della magistratura perché se non erro appunto i dossier devono avere ad oggetto situazioni in cui il perimetro è fissato in maniera chiara organizzazioni criminali mafiose oppure attività di terrorismo ecco quindi qui mi pare un fatto che desta davvero non poca preoccupazione ed è la ragione per la quale io penso che questa commissione dovrà approfondire anche questo aspetto in relazione logicamente per quanto di nostra competenza senza interferire sulla attività investigativa ed indagine e giudiziaria che è in corso grazie grazie deputato Pitali se ne dico molta franchezza quanto io ho provato a illustrare le linee e i risultati le linee e i risultati della mia azione come dicevo non per tracciare una demarcazione rispetto rispetto al rispetto al passato rispetto al passato ma semplicemente per indicare la complessità delle questioni che ho dovuto affrontare che devo ancora affrontare che sono questioni che deve affrontare che sono dinanzi a qualunque istituzione pubblica di questo paese che detenga dati riservati perché non credo come la stessa vicenda di questi giorni dimostrano che ci siano come dire banche dati che siano state come dire inattingibili dagli accessi abusivi dagli accessi abusivi che sono stati portati alla conoscenza alla conoscenza pubblica che cosa avrebbe potuto farsi io non lo so credo che anche chi mi succederà in questo incarico avrebbe difficoltà responsabilmente dire che avrei potuto fare qualcosa di più o di diverso ho detto semplicemente quello che ho fatto io dinanzi alla situazione nella quale mi sono trovato punto la vicenda gravina tutto quello che avevo tutto quello che avevo da segnalare è stato segnalato al procuratore della Repubblica di Perugia che poi successivamente è trasmesso gli atti al procuratore della Repubblica di Roma che successivamente è trasmesso gli atti al procuratore della Repubblica di Perugia il contenuto delle verifiche fatte il contenuto delle verifiche fatte è agli atti della procedura e potrà essere come dire formare oggetto anche di ricostruzione da parte del procuratore di Perugia però ci terrei a dire alcune cose non c'è dubbio che i fatti oggetto i fatti attribuiti al presidente della Federcalcio non abbiano nulla a che fare con la missione per così dire istituzionale della procura della procura nazionale ma infatti io non ho trasmesso quei dati al procuratore di Roma nell'esercizio dei miei poteri d'impulso l'ho trasmessi con la formula doverosamente doverosamente perché sono un pubblico ufficiale che è all'obbligo di segnalare i fatti costituenti e reato nei quali prende nell'esercizio delle sue funzioni e tocca all'autorità giudiziaria competente stabilire se fossero reati e nei fatti attribuiti a quella persona e nei modi che ho avuto modo di ricostruire di acquisizione della documentazione necessaria per poter costruire quel contesto tutto ciò è enunciato in quella mia relazione ma ribadisco che uno dei principi fondamentali della mia azione e anche del patrimonio di credibilità che io ho nei rapporti con i procuratori distrettoni e che l'attività del mio ufficio rimanga nei limiti rigorosamente tracciati dalla legge che sono i procedimenti di criminalità organizzata di cui è l'articolo 51 comma 3 bis quelli di terrorismo di cui è l'articolo 51 comma 3 quote e dallo scorso novembre quelli del novello comma 4 bis dell'articolo 371 bis vale a dire i più gravi delitti cibernetici individuati come tali dal legislatore però ripeto c'è da fare una differenza c'è da fare una differenza è ben possibile che in un'attività di raccolta analisi elaborazione informativa emergano profili di patti costituenti reato altri e allora chiunque svolga quell'attività se è un pubblico ufficiale deve fare rapporto altrimenti è sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 361 del codice penale ma non è un'attività di impulso investigativo e deve dar conto del modo in cui quegli elementi sono emersi e l'attività di impulso investigativo che ovviamente ha degli obiettivi che orientano anche le attività propedeutiche di raccolta analisi elaborazione dei dati delle notizie delle informazioni attenente alla criminalità organizzata al terrorismo e al cyber crime e al cyber crime che definiscono il perimetro della nostra azione e le assicuro che è un perimetro largo e molto impegnativo e al di là dei principi non c'è proprio nessuna come dire nessuna pulsione a invadere altri spazi grazie senatore Verini poi Gubitosa Salemi grazie presidente io ringrazio davvero il procuratore Melillo che già un anno fa avvertì questa commissione e il parlamento nella sua prima audizione del grave stato di vulnerabilità del sistema di protezione informatica del paese non soltanto quindi della direzione nazionale antimafia e questo come dire rafforzare in noi la consapevolezza di questa situazione porta credo come è stato suggerito e auspicato in maniera molto condivisa ad accelerare il più possibile investimenti leggi normative che possano ridurre al minimo il danno di questa e i rischi di questa vulnerabilità ma la ringrazio anche perché la sua esposizione dimostra anche la solidità di quelle che lei ha definito alcune funzioni statali una delle quali è la direzione nazionale antimafia perché nel momento in cui un procuratore nazionale protempore si accorge tocca con mano la vulnerabilità e i rischi che quella funzione statale ha interviene non per azzerare quei rischi ma quanto meno per rimettere a sistema il funzionamento degli apparati che riguardano questi accessi abusivi tanto che lei ha detto non siamo sicuri che non possano avvenire ma siamo oggi certi che ci accorgeremmo se avvenissero confidiamo più che certi io rafforzavo l'auspicio però è corretto dire confidiamo però voglio dire che significa che c'è una funzione statale non solo questa naturalmente che è in grado di avere gli anticorpi necessari lei poi e qui arrivo alle domande lei poi ha detto ha parlato giustamente di gravità estrema dei fatti avvenuti che riguardano non solo gravissime violazioni di privacy ma anche possibili profili collegati o comunque che in ogni caso potrebbero verificarsi di attentati in caso di penetrazioni di violazioni alla sicurezza dello Stato non con la vicenda specifica in sé lo stabiliranno le indagini ma però la gravità estrema è condivisa da tutti noi che siamo qui allora io chiedo a lei la molteplicità di soggetti che sono stati vittime diciamo così o coinvolti in accessi abusivi parlo delle vittime di questi accessi riguarda la politica riguarda lo spettacolo riguarda lo sport riguarda vari ambiti della società ecco questa molteplicità è collegata si è fatta un'idea secondo lei perché non c'è una unidirezionalità e riguarda quella rete ipotizzata di relazioni naturalmente illegali che il sottotenente Striano aveva non ha fatto è difficile pensare mi pare che abbia detto a un'azione individuale prima domanda se si è fatta un'idea su questa molteplicità e se c'è relazione con questa ipotetica rete ma se ma se ed è la seconda domanda il ruolo di queste funzioni statuali rilevanti ha citato la direzione nazionale antimafia ha citato la banca d'italia che sono simboli di presidi di legalità e di tutela della nostra democrazia se è così però lei ha anche parlato di polemiche scomposte che incrinano per incrinare come se le polemiche scomposte fossero finalizzate per incrinare e delegittimare l'immagine dell'antimafia e anche aggiunto che disinformazione speculazioni e altre strumentalità altre strumentali vicendi che riguardano queste delicate funzioni statali ecco allora secondo lei ci può essere non parlo dei soggetti che possono aver pronunciato frasi ma ci può essere una relazione tra questi tentativi volontari involontari di delegittimazione di funzioni come queste e la rete ipotetica che può aver contribuito ad aiutare Striano nel suo lavoro lavoro si fa per dire naturalmente infine può dirci naturalmente non interessano qui i dettagli lei ha raccontato sia pure non essendo biografo del sotto ufficiale Striano ha raccontato un po' i suoi percorsi professionali ma quali sono state secondo lei se può dircelo se è in grado di avere gli elementi le modalità con cui sono stati scelti per gli uffici le responsabilità ricoperte il dottor Laudati e il dottor Russo nei ruoli ricoperti della direzione nazionale antimafia ho finito presidente credo mi anticipo che forse dopo la fine dell'audizione del dottor Cantone io le suggerirei di convocare un ufficio di presidenza perché credo che alla luce anche delle cose dette c'è bisogno di probabilmente di avere altre audizioni interessanti da altri soggetti delle istituzioni grazie grazie senatore mi pare abbastanza evidente che dovremmo capire come procedere prego onorevole Gubitosa posso rispondere prima perché altrimenti chiedo scusa altrimenti poi perdo il filo anche perché che idea ho senatore Verini non credo che siano importanti le mie idee credo che sia importante ciò che l'indagine consentirà di ricostruire alcuni dati mi sembrano evidenti estensione nel tempo negli oggetti degli accessi abusivi sistematicità pluralità degli interlocutori con i quali questi scambi questi scambi si vedrà se illeciti ma certo immorali avvenivano avvenivano alcune cose peraltro si vedono molto francamente dal punto di vista politico c'è un obiettivo quasi convergenza di tutti gli accessi abusivi verso una determinata area politica che era quella che almeno andava formando l'attuale maggioranza e l'attuale governo perché c'è una concentrazione temporale di accessi abusivi su persone che sono espressione di di quell'area non mi pare una ridotta propensione come dire a equanimità degli sforzi però come dire può darsi che fosse una non so se fosse una caratteristica costante o una caratteristica semplicemente rilevata in quel momento dalle indagini dalle indagini io credo che sia importante che le indagini su questi casi escono dalla dimensione di isolamento cognitivo e si proiettino come dire provino ad alzare lo sguardo perché quello che io ho chiamato un gigantesco mercato clandestino di informazioni riservate ha logiche sofisticate che riguardano il mondo dell'impresa che gestisce informazioni riservate che riguarda gli apparati statali che riguarda gli interessi economici e politici che ruotano intorno alla vita del paese e credo che da questo punto di vista vi siano grandi margini di rigenerazione profonda anche dei contenuti nel dibattito pubblico lei poi ha detto che io ho parlato di polemiche scomposte credo che non siano esagerazioni descrittive le mie ho passato parecchi mesi a vedere il mio ufficio che ogni logo pubblicato negli uffici fabbrica dei dossier oppure altre amenità di questo tipo credo tutto questo profondamente ingiusto siamo stati al centro di un attacco come dire di un attacco che è stato determinato innanzitutto dalla rottura del patto di fedeltà che deve legare ogni pubblico ufficiale allo Stato per il quale presta servizio prestaservizio questo attacco è stato obiettivamente agevolato da deficit infrastrutturali e di meccanismi di prevenzione e controllo successivo che abbiamo provato prima indipendentemente da questi attacchi di rafforzare mi lasci dire semplicemente che non è stata un'opera solitaria perché io ho avvertito anche la solidarietà delle istituzioni che hanno alcune delle quali hanno anche accettato di prendersi cura di noi di prendersi cura di noi ma vorrei ribadire che per quanto possano essere semprate disastrose le condizioni della direzione nazionale di mafia e lo erano la definizione è mia sono le condizioni generali dell'amministrazione e della giustizia dell'amministrazione e della giustizia e per molti versi e per molti versi la direzione nazionale antimafia ha da sempre livelli di attenzione sensibilità più elevati più elevati io ho provato semplicemente a garantire un deciso innalzamento e in alcuni casi anche un deciso cambiamento di rotta che non riguarda i nomi delle persone che peraltro quelli che li ha fatto sono considerati da tutti ottimi magistrati ottimi magistrati riguarda l'idea come dire di un certo modo di lavorare per me strutture monosoggettive sono inevitabilmente esposte intanto a un rischio di eccessiva personalizzazione e quindi a un rischio di eccessiva concentrazione di compiti di responsabilità e quindi a un rischio di anche di deradiamento per così dire o di fallaccia o di fallaccia questo è il tema del quale si occuperanno le indagini però ripeto a me piacerebbe che su questa materia come dire dal cittadino non procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anziché dividersi ci si unisse nello sforzo di come dire difendere la sicurezza cibernetica nazionale che è magna pass della sicurezza della sicurezza della della Repubblica e ovviamente unirsi in questo non significa che si dimentica quello che intanto è accaduto e che anzi esige un rigoroso approfondimento e dal mio punto di vista lo ripeto anche un'ulteriore estensione un'ulteriore estensione dell'orbita investigativa dell'orbita investigativa però Sara senatore non sono mica tante le indagini che hanno conseguito i risultati che finora ha conseguito l'indagine di Perugia di solito questo tipo di indagini si ferma a una persona e a singoli attacchi e credo che questo sia un riconoscimento dovuto al lavoro che è stato fatto finora grazie mille onorevole Gubitosa segnalo che ho ancora otto iscritti a parlare procuratori innanzitutto la ringrazio per la chiarezza con il quale ovviamente ha portato la nostra attenzione questi temi dopodiché dato che comunque ovviamente la parola attacco e sistema di cyber sicurezza del nostro paese è stato chiamato in ballo più volte e conosciamo tutti le debolezze del nostro sistema informatico nazionale però in questo caso per restare su questo caso gli attacchi che sono stati ricevuti sono degli attacchi interni signor procuratore ok allora dicevo non c'è problema ripeto la domanda allora attacco mi sto fermo su questa parola attacco l'attacco di cui parliamo è però un attacco interno quindi di un dipendente infedele che nulla a che fare con un attacco esterno pur potendolo chiamare attacco ora detto questo detto questo il responsabile dell'ufficio segnalazioni per l'operazione sospette presso la dna chi era il responsabile chi era dopo di che quest'ufficio era inserito nel servizio contrasto patrimoniale alla mafia e al terrorismo chi coordinava questo ufficio e fino a quando dopo di che le risulta che già nel mese di aprile 2021 con il nuovo programma organizzativo a firma dell'allore procuratore Cafiero di Ara vi era stata una ristrutturazione dell'organizzazione della dna e in relazione all'ufficio segnalazione per operazioni sospette era stata eliminata la figura del responsabile che era stato laudato fino a quel momento e tutte le attività del servizio contrasto patrimoniale alla mafia e al terrorismo compreso le segnalazioni per operazioni sospette erano passate sotto la diretta vigilanza del procuratore aggiunto Giovanni Russo e che per ciascun affare veniva formato un dossier rassegnato a rotazione ai sostituti procuratori nazionali del servizio contrasto patrimoniale alla mafia e al terrorismo dopodiché Striano io una cosa che non ho capito ma aveva due password una della dna con cui faceva gli accessi e una della finanza o ne aveva una sola quella della finanza che poi si è portata dietro queste le mie domande signor procuratore il responsabile dell'ufficio Sosse l'approvato credo di usire sin dal 2014 con varie denominazioni e con come dire con vari impianti organizzativi è sempre stato il dottor il dottor laudati quindi l'ufficio con i vari gestioni i vari programmi organizzativi ha mutato anche le denominazioni delle proprie strutture ma l'attività in questo settore è sempre stata curata dal dottor dal dottor laudati dal dottor laudati ho già ricordato che nel 2021 fu fatta una scelta di produrre una funzione per così dire sovraordinata e di controllo una funzione sovraordinata e di controllo ho anche precisato che questo accorgimento però non base a incidere nella sostanziale solitudine dei processi decisionali che votavano intorno al gruppo SOS e la questione non è tanto quella di come dire a chi assegnare i fascicoli una volta trattati dal gruppo SOS il problema di fondo è costituito quindi il problema di fondo è la garanzia della trasparenza della correttezza ma innanzitutto della trasparenza perché la trasparenza bisogna dar conto indipendentemente da quello che accade mentre invece della correttezza si può dubitare soltanto dinanzi a episodi specifici dicevo dal punto di vista della trasparenza il problema il nodo cruciale era costituito dall'indirizzo delle attività di analisi cioè dalla scelta delle SOS da approfondire da questo punto di vista da questo punto di vista ho provato a introdurre dei criteri ho provato a introdurre dei criteri che ripeto tutti i criteri sono buoni a me più che di criteri anche se penso che quelli che poi adotto è ovvio che di consigli dei migliori di consigli dei migliori poi conta la predisposizione di schemi organizzativi che consentano di verificare l'attuazione di quei criteri il responsabile o referente del gruppo SOS cioè il maggiore marmorale che è qui vicino ogni tre mesi mi trasmette un report di tutte le attività fatte cioè l'elenco di tutte le SOS che sono state analizzate l'uso che ne è stato fatto gli approfondimenti che sono stati curati come dire la destinazione che se ne che se ne che se ne ha avuta che se ne ha avuta proprio la vicenda gravina da un certo punto di vista dimostra come dire proprio la rilevanza di questo nodo cruciale perché improvvisamente nel gennaio 2023 emerge che l'assegnatario del relativo fascicolo era il dottor Savio era il dottor Savio che però era appunto entrato a far parte del servizio entrato a far parte del servizio nel no a dicembre col provvedimento mio del 5 dicembre come forse prima provavo a ricordare per cui quando mi porto il fascicolo dopo averlo esaminato io la prima domanda che ti faccio perché non era scritto inizio a guardare ma scusa ma questi accettamenti come partono da dove nascono e io lui mi dice non lo so provo a chiedere e lo chiede quindi al dottor Laudati che riferisce che sarebbero stati richiesti dalla procura dalla procura di Salerno mi riporto il fascicolo e io faccio la seconda domanda scusa ma il fascicolo reca numero 2023 dal come dire dal novembre 2022 assegno io personalmente i fascicoli non mi ricordo di averterli assegnati di averterlo assegnato lui conviene su questo conviene su questo che chiamiamo la funzionaria che ha detta allora questo servizio e lei dice insomma dinanzi a mia richiesta di spiegazioni non lo so non lo so non so perché sia successo cioè era successo un fatto di per sé grave cioè un fascicolo fosse stato formato senza un provvedimento del procuratore a quale soltanto spetta la formazione e l'assegnazione e l'assegnazione di un fascicolo ma è un dato di fatto che quel fascicolo rifletteva attività svolte nella primavera del 2022 se non sbaglio che improvvisamente riemergeva ovviamente sono circostanze che ho dovuto rassegnare con la conoscenza del procuratore della Repubblica di Roma quindi del procuratore della Repubblica di Roma perché perché rendevano evidente l'anomalia della vicenda in sé e perché si combinavano soprattutto perché si combinavano con le acquisizioni informative che intanto il capitano allora perché è diventato maggiore dopo se non sbaglio ma non c'è relazione causale tra le due cose ovviamente quindi il capitano il capitano marmorale aveva acquisito quindi informazioni secondo le quali quei documenti utilizzati per quel fascico erano stati in maniera incredibilmente inconcepibile consegnati al sottotenente Striano in un bar quindi nei pressi dell'ufficio quindi nei pressi dell'ufficio da persone non identificate ma non identificate ma credo che quindi ecco mi pare come dire è evidente che dinanzi elementi di questo tipo io avessi soltanto avevo soltanto un dovere che era quello di riferirne immediatamente al procuratore della Repubblica di Roma proprio perché era la stessa genesi del fascicolo a rivelare modalità che non esito a definire abusive anche se bisogna anche prendere atto che il delitto bus è stato abrogato quindi anche non sono proprio a perfetta conoscenza delle pubblicazioni in gazzetta ufficiale le pubblicazioni in gazzetta ufficiale però è reato tipico del pubblico ufficiale anche quando allora ho Zanettin Salemi e poi Serracchiani grazie presidente per la parola vi date due minuti di pausa giusto per grazie 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 per la parola di rispondere a alcune domande dall'onorevole gubitosa intanto per quanto riguarda tutte le date le denominazioni no io consegno tutti i provvedimenti negli anni adottati a mia conoscenza in questa materia quindi si può ricostruire completamente anche una coppia del programma organizzativo che attualmente regola regola l'ufficio regola l'ufficio che si è Quanto possa essere utile. Però mancava la risposta alla domanda che lei ha fatto. Io pensavo di averla già data, cioè di averla già data, vale a dire l'accesso alle banche dati, di organi polizia giudiziaria, è stato fino a pochi mesi fa, ripeto, in particolare per Siva, possibile soltanto attraverso macchine e password, cioè credenziali, rilasciate dall'amministrazione. Ma è una banalità. La guardia di finanza, giusto? Sì, certo. Siva è una banca dati della guardia di finanza. Della guardia di finanza è l'evoluzione che oggi consente al gruppo SOS di accedere a Siva dalle nostre macchine. È un'evoluzione iscritta tutta nel discorso sulla sicurezza dei sistemi perché si evita... La rete diretta, l'accesso diretto alla rete internet del corpo. Ecco, bene. Però tutti quegli accessi, numerosissimi, sono venuti fuori dalla sede della DNA, fuori dai processi di lavoro della DNA, fuori da qualsiasi possibilità di controllo del mio ufficio. del mio ufficio e da questo punto di vista è facile prendere atto che non c'era assetto organizzativo che importasse per evitare. Procuratore, solo pochissimi casi riguardano la parte dell'antimafia, giusto? Cioè, gli altri non erano di competenza antimafia, erano accessi della guardia di finanza su altri temi, giusto? Io ho detto in premessa che considero molto interessante, proprio per perimetrare, come dire, anche il rischio rivelato da questa orribile vicenda, quindi verificare, e potrete farlo con il procuratore di Perugia perché a lui compete, come dire, disporre dei dati investigativi nella fase delle indagini preliminari, quanti accessi abusivi siano attribuiti alle persone sottoposte a indagini che riguardano le SOS, quanti di questi accessi che riguardano le SOS, riguardano SOS presenti nella nostra banca dati, quante invece riguardano le SOS presenti in altre banche dati e soprattutto, anche, direi, anche e soprattutto, quanti accessi abusivi non riguardano in alcun modo le SOS e riguardano e riguardano o nostre banche dati, ma che non c'entrano niente con le SOS, cioè il sistema SIDA-SIDA, o, come dire, o invece, ulteriori patrimoni digitali. Ad occhio il quadro che ne emerge è di una minaccia, di un'attività che ha abbracciato l'intero perimetro possibile dei dati riservati acquisibili a fini investigativi e capirete che anche per questo ho sempre considerato un po', come dire, un po' eccessivo, come dire, puntare il dito nei confronti soltanto della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, però siamo, come dire, qui per contribuire a fare chiarezza. Mi collego a questo perché per tutti i commissari, anche quelli che non hanno avuto modo di vederlo, possono richiedere gli inviti a dedurre che ci ha mandato Cantone e lì troverete, negli inviti a dedurre, gli accessi alle banche dati, quindi alla SIVA, alla SERPICO, alla SIDA e allo SDI. Quindi a dimostrazione del fatto che quello che diceva il procuratore, la questione non era un unico accesso, ma era un accesso della stessa persona a più banche dati. Ho anche precisato, onorevole Gubitosa, che per esempio nel cosiddetto dossier Crosetto, che ripeto, è un dossier presentato improvvisamente nel marzo del 2023, tre mesi dopo l'allontanamento del sottotenente Striano, sono riportati dati che non hanno nulla a che fare con le sosse. Credo che potrà essere molto interessante per la Commissione ricostruire col procuratore di Perugia la genesi di questo fascicolo, che, ripeto, non ha nulla a che fare con l'attività della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, mentre ha qualcosa a che fare con l'attività del mio ufficio, il fascicolo gravina, ma ha qualcosa a che fare, nel senso che ha formato oggetto di denuncia del procuratore nazionale. Grazie mille. Prego, senatore Zanettin. Grazie, Presidente. Partiamo da questi dossier, che forse sono la parte più interessante che sta emergendo. Cioè, spiega bene, io non ho capito esattamente, tenuto conto che la DNA non ha poteri di indagine, ma solo di coordinamento e neanche di impulso. Cos'è questo accertamento pre-investigativo? In cosa consiste? Cioè, lei lo ha così definito il dossier? No, è così che lo definisce il sottotenente Striano. Ah, ecco. Quindi è un termine del tutto avulso dalla vostra procedura? È un termine incomprensibile. Nel po' di dottrina formata intorno all'articolo 371 bis, si utilizza il concetto di pre-investigazione per indicare l'esercizio di quelle attribuzioni del Procuratore nazionale antimafia che precedono l'esercizio della funzione di impulso, lo svolgimento dei colloqui investigativi, la raccolta dei dati in banca dati, l'analisi dei dati che stanno in banca dati, l'elaborazione di analisi dei fenomeni criminali. dei fenomeni criminali, ma sono tutte attività che si svolgono quindi senza esercitare alcuna attività di impulso. Cioè, voi avete solo il potere di avocazione, semmai. Atività investigativa. Cioè, nel senso che... No, no, un altro contesto, però voglio dire... Un'altra volta di questo, quell'espressione che è esattamente di accertamenti pre-investigativi, di accertamenti pre-investigativi, intanto è una contraddiczione adiecto, perché, come dire, la parola accertamento fa pugni con l'idea del pre-investigativo. Nel pre-investigativo, in secondo luogo, è una pura invenzione, come dire, terminologica, come dire, del sottotenente estreano, perché io non l'ho mai ritrovata in nessun tipo di documento, eppure ho a che fare in qualche modo con la Direzione Nazionale Antimafia da sostituto di una DDA, da sostituto della DNA, da procuratore aggiunto, da procuratore della Repubblica e ora da procuratore nazionale, più o meno dalla sua origine. Quindi è veramente un'escogitazione, un'escogitazione, come dire, il cui valore vi potrà essere illustrato, quindi il cui significato, le cui finalità vi potranno essere illustrate da procuratore di Pellugini, meglio che di quanto possa fare io. Dottore, io voglio capire meglio la carriera di Striano, perché lei, cioè, era lì dal 99? No, era assegnato alla DIA. Era assegnato alla DIA. La DIA, come le sa, è una istituzione, è una struttura interforza di polizia giudiziaria, di polizia giudiziaria, non solo di polizia giudiziaria. Di polizia giudiziaria, quindi lui è un finanziere che è poi stato assegnato nel 99 alla DIA. Ma la DIA dove, allora? Alla DIA, non ne ho la minima idea. L'assegnazione avviene di regola, quindi è verso la DIA e una. I cosiddetti centri operativi sono nelle articolazioni amministrative, ma anzi, per legge, sono privi proprio di rilevanza giuridica esterna. Però questo ormai è un dato conosciuto solo da pochi. Tenuto in conto solo da pochi, ma cosa abbia fatto nella DIA dal 99 alla 2016, quando è stato assegnato alla DNA, non ne ho la minima idea. Non ne ho la minima idea. So che appunto nel 2018, nel 2016 viene assegnato il gruppo SOS, che poi mi pare a dicembre 2018 va a frequentare il cosso, che è obbligatorio in conseguenza dell'avanzamento di ufficiale, che era previsto per tutti gli ispettori della Guardia di Finanza, furono fatti cinque concorsi e lui vince il primo. Lui vince il primo, ma non sono in condizione di dire più. So che poi, successivamente a questa elevazione di grado, il sottotenente Estriano è stato nuovamente assegnato alla DNA, ma questa volta non dalla DIA, ma dal nucleo di polizia valutaria, al quale era stato intanto segnato. Intanto segnato, dinanzi a questo percorso professionale, dinanzi soprattutto alle attività che oggi a lui vengono attribuite in ipotesi, in ipotesi mi permetto di sottolineare ancora che l'idea di comprendere il sistema di relazioni di questo ufficiale di polizia giudiziaria nasce proprio dalle acquisizioni che adesso prendo, voi disponete dell'invito a comparire riformulato dall'ufficio requiriente di Perugia e scorrendolo si possono porre tante domande alle quali, ripeto, però è bene che dia risposta al procuratore di Perugia. Però le domande me le faccio anch'io, però sono tenuto per rispettare i ruoli a parlarne soltanto con il procuratore di Perugia. Mi rivolgevo allora alla Presidente per chiedere fin da ora, Presidente, che forse queste informazioni sono molto utili, quelle che ci ha fornito il Dottor Melillo, ma magari acquisiamo presso la Guardia delle Finanze esattamente il percorso professionale del sottottenente Striano in modo da avere un quadro più esaustivo, in modo che, dopo noi faremo le nostre... Senatore, le sue domande, le mie risposte, forse aiutano a comprendere il mio stupore dinanzi all'improvvisa affermazione in televisione che secondo la quale Striano sarebbe un impiegato della Direzione Nazionale Intimale. Sì, beh, credo quello sia... Adesso io non so chi le abbia pronunciate queste parole, credo che sia un errore terminologico molto grave, ma... Veniamo poi... Ecco, un altro tema che lei ha toccato, sul quale mi trovo assolutamente d'accordo. De Jure Condendo, cosa possiamo fare per migliorare per migliorare le norme che ci sono? Cioè, adesso abbiamo questo alla Camera, abbiamo questo decreto legge, ma forse il fatto che... È un disegno di legge? Non decreto? No, no, è un disegno di legge. Ah, un disegno di legge. Chiedo scusa, chiedo scusa. Quindi è un po' più lento, quindi abbiamo più tempo per lavorare. Secondo lei, quali potrebbero essere delle modifiche normative? Io ho visto il 615, l'ho guardato anch'io, il 615 TER, forse magari può aumentare un po' le pene, soprattutto per i casi più gravi. Ma secondo lei, dalla base della sua esperienza, quali potrebbero essere le modifiche più significative, alla luce dell'episodio? Cioè, noi stiamo evidentemente vedendo un settore su cui probabilmente c'è, come dire, qualche sbagliatura normativa che merita di essere migliorata. Allora, mi permetterà di... Scusa, solo, ha finito le domande, senatore, così lo facciamo rispondere o ce ne so? Ok. No, mi permetterei di considerare che proprio in spirito di collaborazione istituzionale, quindi quando la presidenza del Consiglio, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e altre istituzioni hanno aperto un tavolo per discutere di queste questioni e hanno avuto la cortesia di invitare il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Io ho formulato tutta una serie di proposte, proposte che sono largamente recepite nel disegno di legge approvato dal Governo, dal Governo che, ovviamente, la scelta del, come dire, dello strumento, come dire, del percorso normativo, come dire, però davvero io mi considererei prioritaria l'urgenza di approvare o di esaminare quel provvedimento, di esaminare quel provvedimento perché contiene non solo le proposte del Procuratore nazionale, ma contiene anche le proposte dell'Agenzia per la Sicurezza Cibernetica nazionale, contiene le proposte di tutte le amministrazioni coinvolte, di tutte le amministrazioni coinvolte, è un disegno di legge, per così dire, interistituzionale che affronta non solo il problema della più efficace repressione di questi reati, ma anche il problema della prevenzione, della prevenzione, quindi rassegnando anche nuovi poteri all'Agenzia per la Sicurezza Cibernetica, soprattutto rendendo, quindi è più chiara la cogenza per le amministrazioni pubbliche e per anzi tutti gli enti inseriti nel perimetro della sicurezza cibernetica che alcuni interventi non sono optional, ma sono doverosi perché è in gioco il bene della sicurezza nazionale e nel perimetro della sicurezza cibernetica da un lato non ci sono tutte le amministrazioni pubbliche, però dall'altro lato ci sono anche soggetti privati che però svolgono funzioni delicatissime dal punto di vista della sicurezza e sono tutti individuati con apposti decreti che non sono classificati, ma so anche che non sono pubblicati. Ma è una materia estremamente delicata nella quale noi stessi ci stiamo immergendo tanto da aver aperto anche un tavolo al CN perché una delle previsioni già in vigore è quella che richiede al CN di trasmettere al procuratore nazionale tutti i dati, le notizie, le informazioni utili all'esercizio delle sue funzioni di impulso e coordinamento investigativo. Ecco, stiamo mettendo in campo per così dire i protocolli attuativi di questa disposizione necessaria per innervare le funzioni dell'agenzia ma ci sono anche altri temi delicati e complessi uno che è stato posto e credo adeguatamente risolto è quello del rapporto tra le funzioni di resilienza dell'agenzia e le funzioni del procedimento penale non è un problema che si pone solo rispetto alla sicurezza cibernetica si pone per la sicurezza nel caso di incidenti in aviazione civile o piuttosto che in incidenti ferroviari che succede quando c'è un incidente c'è un lo dicevo prima un attacco non è solo un reato mette in gioco anche discussioni come un incidente aereo c'è l'interesse a scoprire di chi sia eventualmente la responsabilità ma c'è anche l'interesse a evitare che magari cada un giorno dopo un altro aereo per la stessa ragione per la quale è caduto il primo le due funzioni devono raccordarsi devono raccordarsi in quel campo le soluzioni sono state trovate a livello sovranazionale in questo sono affidate a disegno di legge perché quelle attività vanno raccordate anche con le garanzie difensive perché interferiscono nelle funzioni di accertamento di accertamento irripetibile che può essere risposta al pubblico ministero e lei sa benissimo che la difesa può richiedere invece che si proceda l'incidente probatorio ma questo comporta la necessità di un continuo raccordo cioè stiamo entrando in una dimensione problematica assolutamente nuova ma vitale per gli interessi del paese grazie prego senatore salemi grazie procuratore buonasera mi associo ai ringraziamenti espressi da buona parte dei colleghi perché c'è stata una grande vulnerabilità che lei ha avuto modo di correggere questo comunque è un dato molto importante ora mi sembra di aver compreso che la maggior parte degli accessi siano stati destinati verso un'area che andava a costituire la maggioranza di governo ecco mi sembra di aver capito questo ora al di là dei singoli reati contestati c'è un'indagine in corso quindi non entriamo nel merito ci saranno delle responsabilità che verranno appurate però quello che interessa a questa commissione è il dossieraggio sostanzialmente procuratore cioè il fatto che qualcuno abbia avuto la possibilità di acquisire delle informazioni di trasdarle a dei giornalisti e che questi giornalisti in un determinato momento storico in un determinato momento diciamo dell'anno politico hanno deciso di attaccare una determinata parte politica e questo penso che sia il dato più importante il compito che questa commissione deve avere diciamo in testa per cercare di capire quindi noi vorremmo sostanzialmente comprendere qual è la regia di questo dossieraggio ed è molto molto complesso io le faccio una domanda diretta della quale presaggisco anche la sua risposta procuratore sostanzialmente lei è in condizione di dirci se Striano avesse o eseguisse dei comandi questa è la domanda se lei è in condizione di poterci dirlo non ho capito ripeto le volevo chiedere al di là della prefazione che ho fatto è questa la domanda se magari lei ha questa possibilità guardi se anche fossi in condizione di rispondere non potrei farlo non potrebbe farlo neanche in questo momento in seduta riservata perché ovviamente pregiudicherebbe il corso di indagini come dire che sono delicate e difficili grazie grazie prego onorevole Serracchiani grazie dottor Melillo ovviamente per sintesi e per non perdere ulteriore tempo mi limito solo a ringraziarla in associo a quello che è già stato detto per il grande lavoro faticoso come lei diceva che è stato fatto e di cui credo tutti possiamo ringraziarla io un paio di precisazioni ma perché forse non le ho comprese io nella complessità della esposizione lei ha parlato ed sono parole per quanto mi riguarda molto pesanti sulle quali credo vada fatta veramente una grande riflessione di un mercato di informazioni clandestine riservate va capito se è casuale o sofisticata nell'utilizzo di queste informazioni ora quello che vorrei capire io è lei parla di questo enorme mercato delle informazioni riservate facendo riferimento a queste fattispecie che poi hanno portato al dossier quindi diciamo a quello che di cui stiamo parlando nell'ambito della direzione nazionale antimafia dell'uso oppure più in generale di quel mercato che attiene a tutte le banche dati a cui lei appunto fa riferimento dicendo sono tutte fragili sono tutte diciamo spesso obsolete e come dire con un facilitato accesso quindi mi sono spiegata spero altrimenti entro più questo per capirlo io cioè nel senso un mercato enorme che poi ha portato a queste rivelazioni o stiamo parlando proprio in generale del mercato enorme che c'è dietro all'uso delle banche dati e mi consente di dirlo anche al fatto che noi probabilmente non le stiamo né gestendo né conservando e neppure diciamo utilizzando per i fini loro propri e qui ci sarebbe anche il grande tema di quale ad esempio lo strumento nazionale che dovremmo utilizzare che non è oggetto di quel DDL ma che dovrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare da parte dell'agenzia sulla cybersicurezza quindi questo è il primo aspetto questo basta per un paio di risposte però questo qui secondo me è una cosa su cui mi accontento di qualche minuto se si può per andare per sintesi perché per sintesi io ho parlato di quello che mi pare una chiedo scusa procuratore la finisce perché c'è un'altra attaccata così risponde insieme così magari poi fa tutto sul DDL all'esame della Camera che effettivamente affronta per la prima volta in modo organico tra l'altro mettendo insieme i pezzi quindi mettendo insieme anche l'agenzia sulla cyber security una mia prima impressione procuratore la rimetto però anche ai colleghi approfittando della sua presenza di oggi e nella consapevolezza come lei diceva che dovrebbe essere un lavoro trasversale che sarà sicuramente un lavoro trasversale perché su questo non possiamo certamente mi auguro dividerci però rilevo due questioni la prima che è molto spostata sugli aspetti repressivi delle vicende e molto poco sugli aspetti preventivi dell'affrontare queste vicende prima che accadano quindi un inaspirimento delle pene un'indicazione ulteriore di reati più chiari con qualche lacuna perché come lei ricordava è colpito l'accesso non è colpita l'estrazione e l'uso dei dati no un nuovo disegno di legge non sarebbe così esatto quindi questo diciamo un passaggio in più dopodiché la cosa che un po' mi preoccupa è quella dicitura che c'è sempre però in questo caso è veramente preoccupante perché invece l'attività che viene richiesta in quel DDL è veramente un'enormità anche agli uffici già esistenti che tutto deve avvenire ad invarianza finanziaria e con le risorse umane strumentali e finanziarie a legislazione vigente ora capisce che mi pare un po' complicato riuscire ad ottenere quell'obiettivo ambizioso che lei dice alle condizioni date e senza che questo comporti anche a meno che e questo magari me lo chiarisce nella risposta a meno che in quel piano nazionale nel quale se non ricordo male sono stati allocati 38 milioni da una parte e 7 milioni dall'altra dal Viminale non ci sia anche quello che sono riservati dalla nostra banca dati e allora vede che manca qualcosa diciamo per poter fare qualcosa di più e allora vede che manca qualcosa perché questo possa avvenire in modo ambizioso così come mi sembra da quello che poi lei ha detto e concludo mi pare evidente ma lo anticipava già il collega Verini che forse un approfondimento andrebbe fatto anche diciamo sul versante guardia di finanza e utilizzo degli strumenti a disposizione della guardia di finanza quanto a banche date macchine e quant'altro perché mi pare evidente che se rispetto ai dossier di cui ricordava il procuratore l'accesso non era neppure della direzione nazionale di mafia qualcosa non ha funzionato domanda ma lei è in grado di perché lei ha detto chiedete a Cantone sintetizzo anche qui di verificare quanti accessi sono quelli effettivi delle SOS di verificare attraverso quali database questi accessi avvenivano cioè se della DNA oppure di altre appunto banche dati e quanti di questi accessi non riguardano affatto le SOS ma lei è in grado di fornire al procuratore Cantone diciamo il numero di questi accessi quali erano delle SOS quanti non erano attinenti alle SOS e se questi sono già oggetto di quell'accertamento di cui parleremo anche domani per capire se c'è un tracciamento di ciò che è stato fatto prima del procuratore per chiarezza verso i commissari perché mi sembra se no magari mi sono spiegata male io negli inviti a dedurre trovate già questa risposta che è il motivo ad averli prima non avrei fatto la domanda ovviamente nel senso che non gli sono contestati solo accessi abusivi alla SIVA voglio essere chiara no no ma questo mi è chiaro io quello ho fatto un'altra domanda però cioè è in grado di dire come quando dove perché lo chiedo perché da dopo che lei è arrivato mi è chiaro ma da quello che era prima non lo so rispondo subito tutte le esigenze di accertamento come dire riferite ai nostri sistemi come dire sono state svolte attraverso la collaborazione del mio ufficio nel senso che soltanto come dire io posso disporre verifiche per sapere chi ha fatto cosa quindi da questo punto di vista ho una come dire buona conoscenza di quello che è accaduto purtroppo nel mio ufficio nel mio ufficio e sono state fornite al procuratore di Perugia tutti gli elementi informativi tutti gli elementi informativi che come dire di regola poi era lo stesso gruppo SOS a raccogliere ed elaborare ed elaborare però mi lasci dire due cose ritorniamo alla prima domanda io ho parlato di un mercato di un mercato delle informazioni riservate che ovviamente è un mercato clandestino perché non si svolge alla luce del sole che ha una serie di che ha una grande complessità perché attraversa i detentori delle informazioni coloro i quali sono interessati ad acquisire quelle informazioni e coloro i quali poi utilizzano quelle informazioni per le finalità più varie ho anche precisato che anche le reti prettamente criminali mafiosi o terroristiche hanno comparti finalizzati ad acquisire informazioni sulle indagini che si svolgono è una sorta di ossessione per un'organizzazione quella di entrare in possesso di informazioni riservate questa è un'ossessione che riguarda anche una parte del mondo dell'impresa per le finalità più diverse può riguardare chiunque dinanzi a questo bisogno perché siamo nella civiltà delle informazioni le informazioni hanno un valore ormai neanche più determinabile in termini economici in termini economici è necessario è necessario come dire fare una serie di sforzi convergenti io mi occupo di quelli che riguardano l'attività di accertamento dei reati di attività investigativa produmica all'accertamento dei reati da questo punto di vista credo che l'azione di coordinamento sia estremamente importante perché a volte la prova della possibilità di attribuzione è semplificato recentemente di un incarico e negli atti di un fascicolo di una procura che non sa nulla dell'attacco che invece è oggetto dell'indagine di un'altra procura ed è non trovo non trovo come dire non trovo la mia condivisione l'idea che disegno di legge sia bilanciato sul vessante sul vessante della così dire repressione repressione quindi anche se ammetto che questa può essere un'impressione perché c'è un corposo apparato normativo dedicato a questo ma in realtà è come dire questa impressione deve tener conto del ritardo accumulato perché i delitti scritti nel 2005 sulla bassa della convenzione di Budapest nel 2000 come dire riflettono un'altra era geologica soprattutto in tempi di conflitti ibridi stiamo parlando di un altro mondo che esige una rapida una rapida una rapida evoluzione una rapida evoluzione e da questo punto di vista e da questo punto di vista noi abbiamo un patrimonio di esperienza anche normativa che ci consente di non doverci inventare tantissimo ma di prendere le cose migliori di quel patrimonio in quanto applicabili anche a nuovi fenomeni e utilizzarle e utilizzarle avendo sempre nella massima cura come dire la ricerca di un equilibrio di un equilibrio complessivo quanto la consistenza della dimensione preventiva io non sono un esperto però credo che di questo potremmo discutere e spero anche nel corso dell'esame di questo disegno di legge che mi permettere ancora una volta di sottolineare come urgente perché il G7 credo che avrà tra poco per oggetto proprio questa materia sarebbe come dire sarebbe insomma credo importante andare come dire a un evento così importante come dire dando come dire avendo messo come dire a spade una necessità di superamento di uno scoglio così 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 rilevante la sua seconda domanda era l'invalanza finanziaria deve chiedere al ministro dell'economia delle finanze ragioniere generale e al governo tutto e al governo tutto e al governo tutto ma come dire ho già troppi problemi ho già troppi problemi per conto mio grazie grazie allora il senatore Sisler e poi i piccolotti grazie presidente si sarò anch'io molto sintetico anzitutto ci tengo a ringraziare la presidente Chiara Colosimo per aver immediatamente accolto la richiesta sua dottor Merillo del dottor Cantone di essere uditi in questa commissione ma d'altronde la gravità di quanto è emerso sulla stampa di quanto è emerso oggi richiedeva celerità e la presidente ha giustamente immediatamente convocato lei e il dottor Cantone volevo fare una premessa dottore è stato detto ma ci tengo a ribadirlo nessuno di noi io ma nessuno di noi vuole sottovalutare l'importanza del nostro sistema antiriciclaggio né tantomeno la fondamentale importanza della direzione nazionale antimafia che lei oggi dirige anzi siamo convinti che siano un fioro all'occhiello del nostro paese ed è questo il motivo per cui siamo qui con lei e particolarmente preoccupati per quanto è accaduto lei ha trovato una situazione disastrosa ed è stato bravo da quello che ho sentito oggi a rimediare ad una carenza strutturale che evidentemente c'è con un modello organizzativo che qui chiedo conferma a lei dovrebbe impedire in futuro che ciò accada o meglio non l'accesso diciamo così l'azione illecita in sede dell'accesso abusivo ma che non ci si accorga per lungo tempo di quanto accaduto e di questa gravità lo direi anche ci tengo a dirlo perché mi è piaciuta la sua frase se questa ridotta propensione all'equanimità degli sforzi avesse avvantaggiato la mia parte politica a scapito degli altri perché questo credo riguardi la tenuta democratica del nostro Stato allora dicevo quindi la conferma che ci si accorgerà in tempi molto più rapidi rispetto al passato di questa di questi accessi abusivi anche io come lei credo che non siano azioni di un unico soggetto ma ci sia con molta meno competenza ed esperienza rispetto alla sua ma ci sia un sistema dietro perché non ci si può non si può pensare che un solo soggetto e qui vado anche ad arricchire il curriculum così il senatore Zanettino è contento di un solo soggetto possa porre in essere un numero così alto solo per divertimento personale di accessi abusivi e qui arriva la domanda che completerà il curriculum per il senatore Zanettino ho letto sulla stampa che gli accessi non mi interessa la separazione dico complessivamente sono circa 800 ecco voglio sapere se il suo ufficio riesce a capire se gli accessi sono stati effettivamente 800 sono molti di più credo che questo sia un dato importante non solo numerico allora grazie davvero grazie però mi lasci dire una cosa è vero che c'è un sistema da come dire sofisticato e complesso da inquadrare decifrare quindi nelle sue componenti non conformi alla legge e anche contrastare però assicuro che c'è un sistema anche da questa parte nel senso che c'è un sistema che è fatto di collaborazione istituzionale anche con la guardia di finanza innanzitutto con come dire con le altre forze di polizia giudiziaria come dire è talmente banale basterebbe dire che le indagini della procura di Perugia quindi hanno il fondamentale supporto del nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza per rendersene per rendersene per rendersene conto ecco io credo che noi abbiamo un capitale di fatto di intelligenza di competenza di professionalità di abitudine a lavorare in maniera coordinata che ha bisogno di essere investito anche su questo versante e su questo versante da questo punto di vista c'è uno straordinario bisogno di elevazione delle infrastrutture digitali e degli strumenti digitali a disposizione delle nostre forze di polizia giudiziaria questo lei l'ha detto benissimo anche in commissione giustizia al senato quindi lo sta riguadendo assolutamente 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 sì assolutamente sì c'è bisogno di una ulteriore grande potenziamento dell'organismo del ministero dell'interno che è deputato al contrasto di tutti gli attacchi che convergono verso il perimetro della sicurezza cibernetica cibernetica nazionale cibernetica nazionale nello stesso tempo vi è bisogno come dire di far crescere una cultura della riservatezza che il nostro paese ha qualche oscillazione anche qualche rilevante deficit che riguardano un po' tutti io credo che siano pochi per esempio i pubblici ufficiali anche magistrati ufficiali di polizia giudiziaria che avendo accesso ad atti riservati poi quando lasciano l'ufficio non ne fanno una copia per le proprie memorie le proprie autobiografie a futura memoria eccetera eccetera e questa per esempio potrebbe essere tranquillamente una regola come dire una regola da introdurre legislativamente noi veniamo a conoscenza di documenti riservati per l'esercizio delle nostre funzioni e non abbiamo nessuna ragione di conservarli per conservarli per una sorta di ultraattività di quelle funzioni guardi è un tema delicato e complesso che riguarda sarebbe interessante sentire il direttore degli archivi centrali dello Stato perché addirittura figure che hanno svolto funzioni apicali di governo Presidenti del Consiglio Presidenti o Ministri di Ministri poi bisogna stare interessati per vedere quanti atti vengono conferiti di quelli acquisiti nell'esercizio delle funzioni nei termini e nelle condizioni di legge archivio centrale o invece finiscono in fondazioni private ecco faccio un esempio banale la fondazione Spadolini la fondazione Spadolini conserva tutta la documentazione acquisita dal senatore anche durante l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio e Ministro della Difesa e stabilisce che tutti gli atti saranno conoscibili solo dopo 50 anni è una disciplina parallela alternativa a quella pensata dalla legge sul segreto di Stato sul segreto di Stato ma adesso ho citato il senatore Spadolini ma di queste fondazioni ce ne sono tantissime ecco noi abbiamo gravi ritardi anche sulla percezione del valore delle informazioni coperte da segreto sia esso di Stato o investigativo o semplicemente d'ufficio o semplicemente d'ufficio su questo versante una riflessione credo che sia opportuna da parte anche in sede parlamentare in sede parlamentare mai un sommesso come dire un sommesso è un sommesso suggerimento suggerimento però il libro per esempio di Benedetta Tobagi che si chiama Segreti e lacune che affronta proprio questo anche questo tema è uno strumento utile di conoscenza è appena stato è appena stato credo appena pubblicato e questo tema come dire della 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 trasparenza e dell'effettività dei nostri sistemi di protezione dei segreti è un tema molto delicato complesso grazie mille onorevole Piccolotti grazie presidente grazie mille al procuratore grazie per questa audizione e soprattutto per l'attenzione la cura i dettagli che si l'hanno resa lunga ma l'hanno resa anche molto utile in primo luogo a difendere la procura antimafia la direzione nazionale perché abbiamo visto diciamo attacchi scomposti e io sono d'accordo che possono in qualche modo indebolire l'autorevolezza di questa importantissima istituzione e quindi anche il suo fondamentale irrinunciabile contributo nella lotta alla criminalità organizzata io ho almeno tre domande puntuali una più generale non so mi può anche interrompere rispondere una ad una la prima noi abbiamo ci siamo molto soffermati sulla figura di Striano ma molto poco su quella di Laudati che pure è coinvolto il Corriere della Sera scrive oggi che Laudati avrebbe fatto fare le verifiche su Gravina anche su sollecitazione di una persona vicina all'Otito che era preoccupata per una penso gara e infatti l'Otito verrà ascoltato come testimone io le vorrei chiedere se questa notizia della richiesta da parte di una persona vicina all'Otito è emersa dai suoi colloqui collaudati o comunque nell'ambito dei suoi rapporti collaudati oppure il Corriere la scrive perché l'ha acquisita in un contesto diverso quello dell'inchiesta di Perugia in più le vorrei chiedere quali erano i rapporti fra Laudati e Striano perché Laudati era il coordinatore del gruppo del SOS e mi sono chiesta se poteva e doveva controllare l'attività di Striano nel suo ruolo se riceveva dei report da Striano rispetto alle sue attività o se poteva in autonomia vedere gli accessi alle banche dati vederli tutti uno ad uno e comprendere che cosa facevano faceva Striano nelle sue funzioni La terza domanda puntuale riguarda invece il dossier Crosetto che lei ci ha raccontato ad esserle giunto in una busta chiusa tre mesi dopo la rimozione di Striano volevo chiederle secondo lei perché gliel'ha mandato tre mesi dopo e in questa formula lei gliel'ha richiesto oppure lo ha fatto di sua spontanea volontà come penso di aver inteso ma siccome forse sono stata distratta nel dettaglio lo richiedo è proprio vero che bisogna sempre essere certi di essere stati chiari ho detto che ho ricevuto tre mesi dopo per indicare un segno eclatante del fatto che quell'attività non aveva nulla a che fare con il mio ufficio quindi con il mio ufficio è giunto in un plico trasmesso dalla polizia valutaria al quale era stato consegnato con indicazioni di darlo a me sotto la voce accertamenti pre-investigativi se vuole la mia opinione il dato era coerente col tentativo di giustificare le attività di raccolta informazione abusiva che hanno state svolte nei confronti del ministro del ministro Crosetto del ministro Crosetto però credo che la materia è una di quelle sulle quali potrà il procuratore di Perugia pronunciarsi più efficacemente di me così come le altre due onorevole perché davvero pur disponendo di elementi di giudizio trattantosi di circostanze non dedotte che io sappia nell'invito a comparire devono consigliarsi ancora coperte dal segreto investigativo e soltanto il dottor Cantone cioè il procuratore della Repubblica di Perugia potrà eventualmente richiedere di decidere se parlarne in quali forme in quali momenti in quali in quali circostanze in quali circostanze quanto ha le possibilità di controllo quindi dell'operato di Striano credo anche diffusamente detto è diffusamente detto e quindi non credo di dover aggiungere altro ma spero come dire che la stringatezza delle mie risposte non sia considerata una come dire una sottrazione delle sue esigenze di chiarimento grazie e invece l'altra questione riguarda la sua definizione di estrema gravità che io condivido perché come è stato ricordato anche da altri commissari la gravità va in due direzioni c'è il tema della violazione della privacy c'è delle notizie che poi vengono riportate dai giornali ma c'è anche il tema dell'accesso ad informazioni che potrebbe essere fatto attraverso metodi illeciti sia dalla criminalità organizzata sia dal terrorismo sia come lei ha spiegato anche da alcune imprese che magari vogliono conoscere le indagini a tal proposito lei parlando all'inizio ha detto non c'è solo questo caso ma ci sono molti procedimenti che riguardano accessi abusivi ad informazioni e banche dati io non so se esiste un modo per sapere quanti sono questi procedimenti per accesso abusivo ad altre anche banche dati che si sono tenuti in altre occasioni e glielo chiedo perché sarebbe davvero anche di interesse al fine anche della protezione delle numerose banche dati di cui si può appunto fare saccheggio attraverso attacchi informatici e anche per capire se questo caso si inserisce in una rete più ampia di accessi abusivi lo dico perché e questa è l'ultima domanda io ma la mia conoscenza è limitata ho rintracciato un caso di accesso abusivo del 2010 perché nel 2010 ci fu da parte di un finanziere un accesso abusivo al database di Serpico che portò diciamo all'uscita sul giornale Panorama con pezzi firmati dal giornalista Giacomo Amadori di molte informazioni che riguardavano diciamo anche in quel caso politici giornalisti c'era Nichi Vendola c'era Antonio Di Pietro c'era Beppe Grillo pare che furono fatte 1200 ricerche 1200 accessi abusivi alla fine l'inchiesta si concluse con un patteggiamento del giornalista e credo anche del finanziere infedele e quindi questo segnala diciamo che fughe di dati e fughe di notizie ci sono da moltissimi anni probabilmente ci sono state in tantissime occasioni prima delle banche informatiche ipotizzo che ci fosse il passaggio delle carte che molto spesso venivano indebitamente anche pubblicati sui giornali quindi questo mercato delle informazioni che oggi è più largo è più pericoloso è più potente perché ci sono le banche informatiche in realtà diciamo ne siamo a conoscenza da molti anni le volevo chiedere secondo lei perché le inchieste precedenti a questa non sono mai arrivate lei prima l'ha sottolineato a ricostruire le reti di relazioni e rapporti ma si sono sempre fermati al singolo intanto i poteri di coordinamento del procuratore nazionale antipafia in questa materia sono stati introdotti in novembre non riguardano solo i dati futuri ma riguardano solo i procedimenti quindi riguardano anche i procedimenti aperti anche se commessi infatti il 2010 sono mai consegnati agli archivi però quello che lei dice conferma che non si tratta di un problema come dire che scopriamo improvvisamente oggi ma in altri casi erano indicati anche in alcuni articoli di stampa anche mi ricordo se ieri o oggi leggo la stampa molto presto quindi non so se poi è il giorno ancora precedente o come dire dopo un po' però c'è una dimensione del fenomeno estremamente preoccupante estremamente preoccupante estremamente diffusa per la quale è importante mettere in campo tutti gli strumenti che noi disponiamo oggi c'è quello del coordinamento investigativo spero presto quelli previsti nel disegno di legge di iniziativa governativa tenga presente che abbiamo già iniziato a discuterne con i procuratori distrettuali perché questi reati finora erano trattati da magistrati che non avevano proprio occasione di contatto con la procura nazionale perché erano inseriti in gruppi di lavoro appunto diversi da quelli della criminalità organizzata e del terrorismo c'è l'esigenza di tutti gli uffici di rivedere i loro assetti organizzativi alcuni uffici l'hanno già fatto altri lo stanno facendo tutti però sono consapevoli io credo della necessità che il futuro delle indagini su questa materia è legato allo stesso principio che è poi fondativo dell'esperienza della direzione nazionale antimafia vale a dire il principio di specializzazione del lavoro giudiziario nel 91 quando fu introdotto mi ricorderete quante resistenze ebbe c'erano resistenze anche di tipo culturale rappresentate dal crollo del mito per il quale il magistrato il giudice è capace di applicare il diritto indifferentemente ad ogni caso non è così non esistono specialisti di ogni cosa soprattutto sul terreno investigativo è necessario fare crescere un sapere una professionalità delle esperienze specifiche delle attitudini specifiche che dobbiamo sviluppare anche noi che dobbiamo sviluppare anche noi è uno sforzo è uno sforzo è uno sforzo di ecco si tratta di attrarre nella cultura del coordinamento uffici dove operano bravissimi magistrati che però finora come dire partecipavano poco all'idea di lavorare con anzi per niente a volte con la procura nazionale con una banca dati e conservavano ciascuno i propri dati nel proprio computer o tutta più riversavano gli atti destinati nei documentari dell'amministrazione della giustizia senza però alcuna stratificazione delle informazioni c'è da fare proprio un grande lavoro di ecco di diffusione della cultura del coordinamento degli strumenti del coordinamento e che non si fa dall'oggi al domani abbiamo cominciato questo sarà un lavoro ancora più faticoso di quello che abbiamo fatto finora ma sarà un lavoro collettivo sarà un lavoro collettivo e l'approvazione del disegno di legge in campo sarà uno strumento una risorsa fondamentale per fare questo lavoro alcuni uffici gli uffici faranno scelte in piena autonomia alcuni hanno per esempio fatto scelte che io considero molto lungimiranti per esempio la procura di Milano ha scelto di riservare la trattazione di questi casi agli stessi magistrati che si occupano di terrorismo è una scelta che ha una visione dietro che condivido altri uffici stanno facendo scelte analoghe altri faranno scelte diverse ma quel che è importante è che si affermi in materia di cyber una cultura del lavoro giudiziario specializzato che dal punto di vista della nostra esperienza di uffici requerenti è fondamentale per definire anche la cifra del reale della nostra capacità di accertamento di questi reati e se mi consente è essenziale anche per come dire rendere effettivo il principio per cui le indagini le dirige il pubblico ministero perché un pubblico ministero non specializzato in qualunque campo come dire in qualunque campo come dire si pone una condizione di subalternità cognitiva rispetto a chi detiene sapere sia esso la polizia giudiziaria il consulente o chi altro ecco di consulente di polizia giudiziaria ci sarà ovviamente sempre bisogno ma è necessario che il pubblico ministero abbia come dire ecco una posizione di come dire inquadrato in un sistema ordinamentale organizzativo che consenta di valorizzare quelle caratteristiche comunico che con l'iscrizione dell'onorevole bicchielli ho chiuso gli interventi perché altrimenti non ne usciamo più vivi e mi sembra neanche corretto per l'audizione del procuratore onorevole congedo innanzitutto mi associo ai ringraziamenti di tutti i colleghi innanzitutto per il richiamo che lei ha fatto a noi tutti a tenere alta l'attenzione e l'impegno sulla sicurezza cibernetica soprattutto come azione di contrasto alla criminalità organizzata che mi piace ricordare essere tra le priorità dell'azione di governo di questa maggioranza la ringrazio poi ovviamente per la sua relazione puntuale diretta senza fronzoli immagino che ogni passaggio ogni frase ogni parola siano state adeguatamente pesate non so se la relazione lei ce la lascerà diciamo no perché in quel caso meriterebbe una lettura attenta soffermandosi sulle parole che lei ha utilizzato perché sono parole appunto perché immagino sono appunti informi vabbè però immagino che le parole e le sue osservazioni siano state come dire pesate lei ha parlato di fatti di gravità estrema mercato clandestino di informazioni riservate esiti sconfortanti delle ispezioni debolezza e vulnerabilità estrema del nostro sistema interno informatico comportamenti infedeli di uomini dello stato non compatibili con logiche di deviazioni individuali cioè sostanzialmente lei ha tracciato un quadro obiettivamente questo sì sconfortante di un'istituzione talmente sconfortante che immediatamente come dire si è accorto della situazione tanto da avviare prima da promuovere prima un'attività ispettiva e successivamente una riorganizzazione dell'intero sistema allora forse da cittadino come lei ha detto prima ancora che da parlamentare e commissario una domanda me la faccio possibile che un'istituzione dell'importanza del prestigio dell'autorevolezza della DNA possa come dire aver affrontato una materia così sensibile con termini come ha detto lei con una sottovalutazione macroscopica del deficit strutturale o addirittura con incuria tanto da permettere ad un uomo infedele dello Stato a uno o più uomini infedeli dello Stato di poter agire in maniera disinvolta indossando comunque la maglia mi scusi la metafora calcistica per richiamarmi a uno dei filoni insomma dell'indagine dell'inchiesta con la casacca della DNA perché da cittadino si fa fatica a immaginare che dipenda solamente da questo perché diciamo l'idea che uno magari facendo anche del complottismo si fa che forse ci sia come dire ci sia potuto essere una regia dietro e l'altra domanda collegata a questo è forse una curiosità nella sua attività di riorganizzazione dell'intero sistema e di sostituzione diciamo dell'organigramma di rimodulazione insomma delle funzioni dei compiti ha trovato come dire resistenze se non addirittura ostacoli allora lei ha ripercorso da molte le cose che ho detto quindi non vorrei ripeterle ripeterle ulteriormente quello che dico è che non esiste sistema che sia protetto come dire dal rischio il problema è ridurre la dimensione del rischio ed elevare la capacità di prevenzione e di controllo successivo ma questo non ha rispetto all'organizzazione come dire ecco il fatto che siano state attaccate tra virgolette in realtà di attacchi si tratta di plurime banche dati di disponibilità di altre strutture importanti tecnologicamente molto evolute come ad esempio anche quella della guardia della guardia di finanza rivela che rivela che anche quando non possono vantare sistemi più evoluti di quelli dei quali spero di liberarmi presto per passare a una banca dati progettata nel modo in cui siamo riusciti a farlo con quelle collaborazioni istituzionali che ricordavo in realtà poi resta sul tavolo il rischio di deviazione e quello è un rischio che è fronteggiabile soltanto dotandosi di strumenti di controllo organizzativo ma anche di strumenti di controllo investigativo e ritorniamo alla necessità di un deciso avanzamento del frontiera normativa delle indagini in materia di reati cibernetici di reati cibernetici se ho trovato ostacoli nel rinnovamento è certo che ne ho trovati quindi non è facile cambiare le abitudini non è facile spiegare a tante persone che devono come dire essere rimandate nei loro uffici di appartenenza a fare altre cose anche se obiettivamente non hanno alcuna colpa perché c'è bisogno di introdurre principi di votazione e quindi quando si cambiano le abitudini quando si cambiano i metodi di lavoro quando si cambiano come dire le prassi ci sono sempre resistenze ma non sono questi gli ostacoli di cui parlo l'ostacolo principale è rappresentato da secondo me da un stato dell'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia e in particolare di quelli che servono che è condizionata da una visione di lunga data pauperistica e inadeguata rispetto alla complessità dei compiti che la magistratura deve svolgere ecco di questo c'è bisogno e se posso ribadirlo davvero io sarei tra virgolette felice di attacchi alla magistratura sul terreno dell'organizzazione giudiziaria piuttosto che come dire che sul vessante delle attribuzioni normative delle attribuzioni normative no degli attacchi non si è mai felice mi lascio correggere però voglio dire è una dimensione cruciale per definire la qualità della risposta giudiziaria in ogni campo che è largamente sottovalutata è largamente sottovalutata come dimostrano gli interventi normativi gli interventi normativi quindi a costo zero che inviano l'attuazione di due anni magari giusto il tempo perché per dar modo a qualcun altro di prendere atto che non è possibile effettivamente applicarli ecco quindi quando la discussione intorno ai temi della giustizia si decontaminerà dalle contrapposizioni polemiche dagli interessi particolari dalla pressione degli interessi particolari o delle visioni pregiudiziali secondo me non sarà mai troppo tardi però mi rendo conto che è un mero auspicio che formulavo già molti molti anni fa che è rimasto tale grazie mille comunico che l'onorevole Bicchielli ha rinunciato alla domanda in quanto simile a quella di congetto e quindi abbiamo l'ultima domanda che so essere velocissima del senatore Russo sì molto velocemente nella sua relazione parlava appunto del suo processo di verifica del sistema trovato e ha fatto un passaggio che io volevo approfondito sul tema che lei ha trovato anche una se ho capito bene una prassi di affidamenti o comunque di molto fiduciari in qualche modo ai fornitori esterni di servizi informatici o qualcosa del genere quindi penso che si riferisce a quelli che hanno la manutenzione del software dell'hardware e quant'altro e mi chiedo se questa tra virgolette eccessiva fiducia in società esterne possa rendere abbia reso o possa rendere i sistemi ancora più vulnerabili agli accessi evidentemente allora una delle principali debolezze del sistema è rappresentato dalla rinuncia parlo dell'amministrazione della giustizia che conosco un po' meglio voglio dire dalla rinuncia al governare i processi tecnologici nell'era analogica era lo Stato che forniva per esempio gli strumenti per le intercettazioni è un discorso che ho fatto infinite volte infinite volte io non c'ho nulla contro l'apporto del privato allo sviluppo di funzioni statali anche di quelle investigative anzi direi che è un rapporto assolutamente indispensabile perché soltanto l'impresa privata garantisce quella rapidità dei processi di ricerca di avanzamento tecnologico che nessuna amministrazione statale può mettere in campo se non per periodi limitati in settori estremamente riservati ormai anche le conquiste nello spazio come dire avvenono l'impresa privata in campo però io sono sempre ricorso e lo ripeto per l'ennesima volta a una metafora ferroviaria i vagoni possono essere privati ma i binari devono essere pubblici e perché è chi fisse binari che stabilisce le regole del gioco stabilisce le direzioni di marcia i divieti di ingresso di accesso i limiti di velocità i limiti di carico nei punti critici della rete e insomma tutte le altre possibili moltiplicazioni di questa piccola metafora ferroviaria ecco da questo punto di vista ci sono delle scelte in campo quindi in campo al quale io guardo con fiducia mi sta grande preoccupazione una di quelle per esempio è l'avvenuta finalmente approvazione di idea di costruire delle sale interdistrettuali per l'esecuzione delle intercettazioni non per tirare fuori le società private che anzi per i contatti con i quali ho avuto ufficialmente perché sono venuti a parlare sono felici di entrare in un nuovo mondo sono pronte a collaborare sono pronte a collaborare ma perché è necessario che l'amministrazione della giustizia assuma la responsabilità dell'architettura dei sistemi della configurazione delle linee fondamentali della gestione di dati di dati personali così rilevanti è in campo un processo normativo un processo normativo che adesso sta per giungere mi pare al terzo decreto al terzo decreto attuativo spero che siano come dire da questo punto di vista da questo punto di vista in campo come dire messe in campo risorse finanziarie e tecnologiche ma non sono in grado di verificarlo posso dire soltanto che in quel piano decennale di investimenti che fu approvato dal ragioniere generale dello Stato come dire tecnicamente erano previsti già nel 2017 40 milioni per realizzare 4 sale server interdistrettuali e credo che sia stato speso molto di più per fare mille interventi tamponi su 140 sale server senza in alcun modo elevarne la sicurezza elevarne la sicurezza ma sono domande che credo possano più utilmente essere poste dal Ministro della giustizia grazie mille permettetemi di rinnovare anche il precedente Ministro della giustizia permettetemi di rinnovare a nome di tutti il ringraziamento al procuratore nazionale per questa audizione fiume ma dettagliata e fondamentale per lo sviluppo dei nostri lavori vi ricordo che siamo convocati domani alle ore 10 per l'audizione del procuratore cantone grazie a tutti